Bene, allora buongiorno di nuovo a tutte e a tutti. Iniziamo l'incontro di oggi con la lezione della professoressa Antonella Fancello, che abbiamo appena salutato poco fa. La professoressa Fancello si occupa di transizione digitale per due importanti agenzie governative, l'Agenzia per Italia Digitale e il Forma XPA, entrambe sotto la presidenza e il Consiglio dei Ministri. La professoressa Fancello insegna anche amministrazione digitale e government per la laurea magistrale Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Sassari, scusate, ed è inoltre referente per la Sardegna dell'AICA, ossia l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico. In questo incontro tratterà per noi il tema dei dati, sotto punti di vista diversi. I dati, come se ne parla anche nelle trasmissioni per il grande pubblico, sappiamo che sono ormai diventati il petrolio di questo nuovo millennio. Più dati possediamo, più siamo potenti, quindi se usati bene possono portare ovviamente a trasparenza e libertà, ma al contrario, se usati male, possono portare invece a controllo e sottomissione. Il Consiglio di Sassari ci mostrerà quindi come l'impiego dei dati stia ormai scuotendo quelli che sono gli equilibri economici, culturali, sociali, ma in definitiva gli equilibri democratici del nostro tempo. Passo la parola quindi al dottoressa Fancello e vi auguro una buona lezione. A più tardi. Grazie mille Stefano. Sì Stefano ha fatto un'ottima sintesi della carrellata che cercherò di fare nelle prossime quattro ore. Diciamoci subito Stefano aiutami, come organizziamo le pause? Io pensavo di farne una a metà, dopo due ore, però dimmi tu se nel corso degli altri incontri vi siete regolati in maniera differente. È stato un po' vario, alcuni hanno fatto pausa magari dopo ogni ora, alcuni dopo due ore, dipende un po' dal come è organizzato il materiale, quindi ogni due ore può andar bene. Perfetto. Magari facciamo una pausa lunga alle undici. Lunga significa un quarto d'ora e poi insomma facciamo tutto un rush finale. Sostanzialmente nella prima parte parleremo in generale di dati e degli open data, tutta la seconda parte ho deciso di dedicarla al caldissimo tema dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi, che è un tema pregnante degli ultimi tempi. Vedremo anche per quale ragione, perché in realtà c'è anche una motivazione. Allora, siete tanti, 23, quindi è un bellissimo numero. Non so se con qualcuno di voi ci siamo incontrati, lavoro per il Formez PA e moltissime attività delle quali mi sono occupata sono state svolte dal Formez della sede di Cagliari per gli operatori pubblici della Sardegna, quindi ci sta che con qualcuno di voi ci si sia incontrati. Non perdo tempo, vado subito a condividere la mia presentazione, naturalmente segnalatemi qualunque problema audio, video o di visualizzazione. Dunque, comincio col dire che è il secondo anno che ho la possibilità di svolgere questo modulo ed è il secondo anno che decido di aprire con questa infografica che in realtà è molto significativa nonostante sia abbastanza datata rispetto al fatto che in un'unica infografica sono raccolti tutti i temi di cui parleremo nelle prossime quattro ore. Spaventa un po' queste quattro ore, sembrano infinite. Insomma, cercheremo di non appesantirle troppo. Perché vi dico questo? Allora, quell'enorme sfera gigante che è quella che avvolge tutto è quella di tutti i dati, qualunque dato venga prodotto in questo momento da qualunque cittadino del mondo e qualunque oggetto. Perché ormai in rete, lo vedremo tra un po', non ci sono connessi soltanto calcolatori dentro dei personal computer come poteva essere alla fine degli anni Sessanta quando la rete internet è stata inventata, ma quasi qualunque oggetto è connesso alla rete, inclusi noi che indossiamo oggetti come smartwatch o altri oggetti cosiddetti wearable che sono connessi alla rete e quindi rilasciano dati in continuazione. Tutti questi dati, tutto questo calderone di dati viene raccolto da qualche parte ed è il grosso tema dei big data. Big, dati grandi, quel big è non solo perché sono tanti dati, ma perché è tanto grande la capacità di elaborazione dei calcolatori che nel 2022 hanno raggiunto. E i big data possono essere raccolti dalle istituzioni, quindi diciamo, tra virgolette, a fin di mene per migliorare i servizi del cittadino. Faccio subito un esempio, l'anagrafe nazionale della popolazione residente a NPR, che è il grosso progetto che finalmente è stato portato a termine in questi mesi, raccoglie tutti i dati degli 8.000 comuni italiani, di tutti i cittadini residenti negli 8.000 comuni italiani, inclusi i cittadini italiani residenti all'estero, ed è un po' un bacino di big data pubblico. Tra questi, poi ci sono i big data privati, che sono quelli delle big companies, questo big che emerge a più non posto, le famose cinque sorelle di cui parleremo tra un attimo, Google, Amazon, Facebook, Apple, sono invece delle compagnie che raccolgono i dati dei cittadini per ben altri fini, sicuramente non pubblici. All'interno di questa macrosfera di dati ci sono poi gli open data, che non vanno, attenzione, confusi con i dati pubblici. Open e pubblico non sono sinonimi, sono dati pubblici tutti quelli di cui viene data in qualche modo notizia. Sono open data, e lo vedremo tra un attimo, i dati che hanno tre caratteristiche molto specifiche, vedremo quali sono queste tre caratteristiche, che li rendono riutilizzabili in qualche modo. Anche gli open data possono essere prodotti sia da soggetti pubblici che da soggetti privati. Quando l'open data viene prodotto da un soggetto pubblico, una pubblica amministrazione, un comune, una regione, siamo nel campo dell'open government data, quindi quei dati che vengono resi, restituiti, si dice proprio ai cittadini, perché li possano riutilizzare e generare nuovamente valore. Quindi macrosfera, dati raccolti in grosse quantità, diciamo dai buoni e dai cattivi, dalle pubbliche amministrazioni e dalle big companies. Dentro questa macrosfera ci sono gli open data, cioè quelli che possano essere riutilizzati, anche in questo caso da soggetti pubblici, cioè da prodotti, da soggetti pubblici e da soggetti privati. Noi siamo quella piccola, la chiamo la particella di sodio, ma è data. Noi siamo quelli che produciamo, che implementiamo questa grossa mole di bit, perché di altro si tratta, non si tratta ad altro, di zero e di uno che associati in maniera diversa compongono dati che a loro volta, lo vedremo tra un attimo, comporranno conoscenza. Allora, questo è giusto il tema. In un'ottica, ecco, torno a quello che c'è scritto nella slide, di data driven. Si parla tantissimo di data driven, c'è anche nella strategia italiana della digitalizzazione e della pubblica amministrazione. Cosa vuol dire data driven? Si dovrebbe arrivare a prendere delle decisioni guidate dai dati, quindi facendo in modo che, nella massima trasparenza possibile, ogni scelta debba essere motivata dai dati di cui io sono in possesso. Ogni scelta possa essere motivata, spiegata, specificata ai cittadini, in un'ottica di trasparenza, attraverso i dati che ho utilizzato per arrivare a quella scelta, per giungere a quella decisione guidata dai dati. Data driven, questo è il motivo. Mi presento molto velocemente. Allora, ho la maturità classica e questo ci tengo sempre a sottolinearlo, non vengo dal mondo scientifico, ma faccio parte di quella macro categoria di persone che sono approdate al digitale da studi classici e penso che la visione umanistica sia quello che ci salverà rispetto a tutto quello che sta accadendo con l'automatizzazione di tutto ciò che ci circonda. L'input mi è arrivato nel mio percorso di studi, mi sono laureata in scienze politiche col professor Giovanni Duni, che è il primo teorizzatore italiano, come da Wikipedia, del file avente valenza giuridica in un procedimento amministrativo. Cioè è stato il primo, e l'ha detto nel 1978, a dire guardate che il file, cioè quell'insieme di date a cui noi diamo un nome, dovrebbe avere la stessa valenza del foglio di carta con la firma autografa. Ovviamente nel 78 è stato preso assolutamente per pazzo, ci è voluto un percorso abbastanza lungo perché poi questa stessa sua affermazione entrasse nel codice dell'amministrazione digitale nel 2005, lui l'ha detto nel 78, però da lì, diciamo, è partita la scintilla che poi mi ha fatto proseguire e continuare ad indagare, a divulgare i temi dell'amministrazione digitale, dell'up and governance, quindi dei dati. Lavoro per Forme SPIA e in questo momento per l'Agenzia per l'Italia Digitale in un progetto che si chiama Italia Login. Insegno all'Università di Sassari, come ben vi ha detto Stefano, i government, amministrazione digitale, ho già insegnato pratiche digitali ed empowerment dei cittadini, faccio parte di AICA, più di tutto dico sempre sono un'attivista digitale. Cosa fa? Di che cosa si occupa l'attivista digitale? Allora, l'attivista digitale va in giro a raccontare non solo quanto è bella la rete, non solo quanti rischi ci sono all'interno della rete, ma cerca di mettere nella bilancia pregi e difetti, rischi e opportunità in un contesto sociale in cui spesso stanno emergendo soltanto i rischi e le paure, un po' figli di tutti i film di fantascienza che abbiamo visto, ma è compresa, siamo arrivati a leggere una notizia l'altro giorno del tizio di Google che è arrivato ad affermare che l'algoritmo è senziente. Ok, se ho un minimo di conoscenza di come funzionano gli algoritmi di intelligenza artificiale e di che cosa al massimo può succedere, mi renderei immediatamente conto che quel tizio ha detto una stupidaggine come in realtà, però la notizia è stata quella, è stata rilanciata da tutte le pagine su tutti i tabloidi. Allora, essere un attivista digitale significa, come spesso faccio io, organizzare eventi soprattutto nelle scuole, con i ragazzi, col mondo delle associazioni per raccontare che cosa il digitale può cambiare in meglio, migliorare nelle nostre vite e quando dobbiamo stare assolutamente vigili sul fatto che invece impatti negativamente. Partendo da questa frase che è quella che dico sempre ai ragazzi, la tecnologia digitale come tutte le tecnologie è neutrale, non è né buona né cattiva, buono e cattivo è l'uso che ne facciamo e si tratta soprattutto in questo momento storico, ci tengo a sottolinearlo, della nostra capacità in etica digitale, è sempre una questione di etica che ci renderà in grado di rendere l'innovazione utile o dannosa. L'intelligenza artificiale, i dati, dipende da come li uso, c'è l'uomo buono e l'uomo cattivo, l'uomo buono che li utilizza per generare servizi efficaci per i cittadini, l'uomo cattivo che li usa per controllarli. Allora, questo è il tema, diciamo, il cuore del ragionamento che ci accompagnerà per tutta la mattinata. Parliamo di dati, abbiamo detto che vengono, noi siamo dei produttori di dati quasi inconsapevoli, siamo dati che camminano, siamo 0 e 1 che in questo momento ciascuno di noi sta producendo nel momento in cui siamo connessi in rete, abbiamo lo smartphone acceso, riceviamo le notifiche, continuiamo a vedere le mail, abbiamo l'applicazione aperta in esecuzione automatica sia nel pc dello smartphone, sono tutti i dati che noi stiamo rilasciando. pensate anche quando dormiamo se lasciamo lo smartphone acceso e se geolocalizzato, pensate soltanto a quante informazioni sa di noi il nostro operatore telefonico, ma non da oggi sa sempre, sa dove sono, sa con chi comunico più frequentemente, quali parole uso, dove mi sposto, c'è Google che è in grado di come dire, calcolare la velocità che tengo in un dato tratto di strada della mia automobile verificando quanto ci metto per andare da una cella all'altra del mio operatore, per dire, ma è veramente superfluo in questo momento cercare di fare un elenco di tutto ciò che ha a che fare nella nostra vita quotidiana con il rilascio di dati, perché sarebbe una lista immensa. partiamo dalla definizione basica che ci aiuta a capire tutto quello che ci diremo stamattina. Allora, il dato è la quantità più piccola di un'informazione. Cosa vuol dire? Se io dico Mario Rossi era nato a Roma nel 1950, Mario Rossi è nato a Roma nel 1950 è l'informazione che riguarda Mario Rossi, dopodiché è un dato Mario, dato nome, Rossi dato cognome, Roma dato luogo di residenza, eccetera, tutti i dati insieme mi danno l'informazione che riguarda Mario Rossi. Tante informazioni mi generano conoscenza, quindi tutte le volte che sentiamo parlare di dati e informazioni dobbiamo essere in grado di distinguere, di discernere le due componenti perché spesso si usano come dire indistintamente. Il dato è la parte più piccola dell'informazione, sono tanti dati, io ho bisogno dei dati di tanti cittadini per avere la conoscenza di un determinato territorio, di un determinato paese, di un determinato spaccato di società che è quello che fanno con la targetizzazione coloro che si occupano di social media marketing sfruttando il data analysis dei social per esempio, quindi un dato da solo non mi dice nulla, il dato solo di Mario Rossi è assolutamente poco significativo così come tutta l'informazione che riguarda Mario Rossi diverso è se ho l'informazione di un numero significativo di cittadini e che quindi mi dà la conoscenza di un campione, tutti nati tra il 50 e il 53, tutti quelli che abitano a Roma, tutti quelli che si chiamano Rossi se io ho una tabella che mi dà la possibilità di incrociare i dati tra di loro non si incrociano le informazioni si incrociano i dati i dati disaggregati si dice così allora posso generare nuova conoscenza torniamo alla seconda slide questa nuova conoscenza può essere nelle mani dell'uomo buono e dell'uomo cattivo ok oddio era scomparso allora primavera di Botticelli mi posso ritrovare una didascalia di questo tipo che io semplicemente posso leggere ne posso acquisire le informazioni la posso anche stampare se si trova in rete ma non posso sapere null'altro né di Botticelli né di opere analoghe che si possono trovare alla galleria degli uffizi diversa è se mi viene proposta una tabella di questo tipo che mi dà la possibilità di incrociare i dati in essa contenuti per esempio per sapere quante altre opere di Botticelli ci sono alla galleria degli uffizi o quante altre opere di Botticelli sono state realizzate nel 1482 qui dentro c'è già qualcosa non è completamente disaggregata questa tabella ci sono già un paio di due tre cosette che non vanno per esempio non va bene questo è un dato che è un dipinto è un dato che è un dipinto a tempera ed è un dato che è un dipinto a tempera su tavola vedete che questo è già un'aggregazione di dati poteva essere disaggregato e poteva avere più colonne che mi davano evidenza solo del fatto che fosse un dipinto così avrei potuto incrociare questa tabella con altre tabelle che mi dicevano se erano presenti altri dipinti se c'erano altri dipinti a tempera e se c'erano altri dipinti a tempera o non a tempera su tavola non so se sto riuscendo a essere chiara in quello che vi sto raccontando più il dato è disaggregato cioè scomposto più è dato il dato è dato e non informazione e più riusciamo ad indagarlo come incrociandolo con altri dati e lo posso incrociare soltanto se è disaggregato altra cosa Villa Medicia di Castello è un dato che si trova nella Villa Medicia ed è un dato che si trova che si trovava scusate perché adesso la Galleria degli Uffici a Castello anche questo poteva essere disaggregato e avrei avuto la possibilità incrociandolo con altri dati di avere informazione ulteriore conoscenza di altri dipinti presenti a Castello e nella Villa Medicia oppure no poi è pessimo questo circa che non dovrebbe mai esserci in una tabella con dati puliti questo è un dato sporco come si suol dire è un termine che si usa moltissimo parlando di dati perché circa non mi dice nulla o è nel 1482 o non è nel 1482 l'altra cosa che ci restituisce il dato è l'esattezza ora in questo caso entreremo un po' in confusione perché purtroppo quel circa è stato messo perché di fatto esiste un circa quindi non siamo sicuri che quest'opera sia effettivamente del 1482 diciamo che potremmo dire che è stata realizzata intorno al 1482 però tecnicamente questo è un dato sporco perché in teoria non lo potrei utilizzare tutto questo di cui sto parlando è all'interno della materia che insegno all'università che si chiama e-government perché anche l'informatizzazione della pubblica amministrazione quindi la digitalizzazione dell'azione della pubblica amministrazione si occupa di dati anzi adesso proprio in questo preciso preciso momento lo vedremo tra un attimo è proprio un tema centralissimo anche per gli obiettivi che devono essere raggiunti dai singoli comuni alcuni entro il 22 luglio ne parlerò tra un attimo il primo a parlare di informatizzazione della pubblica amministrazione fu Massimo Severo Giannini in questo rapporto incredibile naturalmente le slide le avrete ci sono tutti i link dove andare a vedere gli approfondimenti e vi dico le slide sono tantissime ma andrò molto veloce su alcune e avrete però l'opportunità di soffermarvi quando le avrete insomma per approfondire di più alcuni temi che oggi non abbiamo il tempo di focalizzare allora Massimo Severo Giannini disse che informatizzazione e sviluppo dell'amministrazione sono erano rimangono strettamente connessi cosa significa che non si può immaginare una pubblica amministrazione efficace ed efficiente notare lui l'ha detto già dal 1979 se non è informatizzata diceva lui pensare che questo obiettivo non l'abbiamo ancora raggiunto ci fa insomma un po' tremale le vene dei polsi di fatto soprattutto in Italia è stato e continua ad essere un processo molto lento e oggi ne vedremo un po' le ragioni siamo in perenne trasformazione questa parola trasformazione è diventata soprattutto negli ultimi cinque sei anni transizione è una parola molto diversa nel suo significato perché transizione racchiude anche gli aspetti culturali di un cambiamento è cambiata la vita dei cittadini o meglio si è cercato di introdurre delle innovazioni che la cambiassero profondamente mai nessuno scossone ormai ve lo sarete sentite dire più volte come quello dei due anni della pandemia ci ha fatto capire quanto il digitale potesse esserci utile per abbattere alcuni ostacoli che esistevano o che esistono ancora per chi è fuori dalla transizione digitale perché in realtà come operatori pubblici come addetti ai lavori il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di fare in modo che tutti transitassero all'interno di questa infosfera come la chiama un filosofo che si chiama Luciano Florini di fatto uno spaccato della popolazione molto ampio è fuori e questa è un po' la nostra pecca è anche quello che rende molto lenta la transizione digitale italiana allora questo è lo schema in sintesi che io condivido con i miei studenti all'università tappa per tappa qui non faremo assolutamente niente del genere perché non vi voglio annoiare però vi voglio giusto far capire quanto è lungo questo processo di trasformazione poi diventato transizione cominciato proprio nel 1978 con le dichiarazioni di Giovanni Duni alla Corte di Cassazione arriva poi la legge 241 del 1990 che è stata la legge più innovata dalla digitalizzazione ogni volta che esce mi riferisco soprattutto agli ultimi anni un DL semplificazioni piuttosto che una riforma del codice dell'amministrazione digitale impatta su qualche articolo della legge 241 del 1990 cioè la prima legge sul diritto d'accesso al procedimento amministrativo nel 1993 un po' sulla scia di quello che stava già accadendo negli Stati Uniti nasce l'autorità italiana per l'informatica nella pubblica amministrazione che poi diventerà CNIPA nel 2003 Digit Pia nel 2009 e oggi Agid che avoca a sé una quantità immane di competenze e di funzioni è nel 1997 che Franco Bassanini Ministro per la Funzione Pubblica dà il vero scossone nell'introdurre nel cominciare ad introdurre le prime norme sulla validità del documento elettronico sulla firma digitale e si comincia anche a parlare di domicilio digitale di posta elettronica certificata i principi contenuti nelle leggi Bassanini sono quelli che poi ritroveremo molto più avanti nel codice dell'amministrazione digitale la strategia di Lisbona anche in questo caso scossone che arriva dagli Stati Uniti dal governo di Al Gore che comincia a dire in un momento di espansione della rete anche se ancora noi non ce ne eravamo perfettamente accorti più società dell'informazione per tutti quindi i primi progetti di digitalizzazione anche della pubblica amministrazione che portano nel secondo e terzo governo Berlusconi ad avere con Lucio Stanca il primo ministro per la digitalizzazione attenzione il primo ministro poi ne abbiamo avuto solo altri due una è Paola Pisano che abbiamo avuto poco tempo fa e l'altro il ministro Vittorio Colau che abbiamo adesso in soltanto tre momenti della storia della Repubblica Italiana abbiamo avuto dei ministri penso che da questo momento ce l'avremo sempre però è anche significativo quanto poca rilevanza sia stata data dai governi che si sono susseguiti attenzione io citerò governi di destra e sinistra di centro grillini senza voler dare enfasi all'uno all'altro ma per darvi anche un'idea dell'escursus storico che ci ha accompagnato e della lentezza che ci ha accompagnato in questo lungo processo a Lucio Stanca viene dato un mandato del Parlamento per redigere il primo codice l'unico codice europeo che racchiude tutte le norme della digitalizzazione si chiamerà codice dell'amministrazione digitale è stato varato ed entrato in vigore il primo gennaio del 2006 di fatto uno dei codici meno attuati della storia della Repubblica per vedere l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale dovranno accadere tutta una serie di altre cose i primi cinque anni passano praticamente in sordina nel 2010 con la strategia Europa 2020 l'Italia sotto il governo Monti entra nella strategia europea che prevede tutta una serie di obiettivi da raggiungere all'interno della cosiddetta agenda digitale europea nel 2013 col decreto trasparenza primo brunetta diciamo sempre inizia a comparire il concetto di dato è nel decreto trasparenza che per la prima volta si parla di apertura del dato il cosiddetto principio open by default che vedremo tra un attimo mentre negli altri paesi è comparso molto prima noi abbiamo dovuto aspettare al 2013 perché questo accadesse e aggiungo non è ancora messo in pratica nonostante ci siano tutta una serie di direttive europee che ci vincolano ci vincolerebbero ma non esistendo le sanzioni ogni PA fa un po' come gli pare nel 2015 la vera la più importante riforma del codice dell'amministrazione digitale è quella portata da Mariana Madia ministra per la funzione pubblica all'interno della sua legge della legge che porta la sua firma perché è la vera rivoluzione perché nel 2015 che la prima parte del codice diventa carta della cittadinanza digitale all'interno ci sono i diritti di cittadinanza digitale ed è allora che si comincia a parlare di sistema pubblico di identità digitale quindi di speed di posta elettronica certificata obbligatoria non obbligatoria di applicazione mobile che poi sarà io quella che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni per rendere accessibili i servizi della pubblica amministrazione anche in mobilità eccetera eccetera ed è sempre sotto il ministero della 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 madia che nasce il FOIA acronimo che abbiamo conservato in lingua inglese è il nuovo diritto d'accesso generalizzato abbiamo tre leggi sul diritto d'accesso quella del millenovecentonovanta che è un diritto d'accesso che consente a chi è parte in un procedimento di accedere a dati fatti che lo riguardano in qualche modo abbiamo il DL trasparenza del duemila e tredici che invece è diritto d'accesso a tutti quei documenti che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare nella famosa pagina amministrazione trasparente dei siti quello del duemila e sedici una vera rivoluzione anche lì arriviamo molto in ritardo rispetto a tutti gli altri paesi tutti i cittadini hanno il diritto di accedere a tutti i documenti atti dati prodotti dalla pubblica amministrazione ovviamente non devono essere ricoperti da segreto militare segreto giudiziario non si deve in nessun modo violare la privacy dei cittadini però scompare la motivazione scompare il fatto che io debba avere una motivazione per chiedere un accesso ai dati il famoso accesso dati lo chiamano accesso foia di cui i cittadini sono veramente poco a conoscenza nel riquadro in rosso quello che anche con i ragazzi chiamo l'ultimo miglio perché è veramente il periodo storico in cui si è prodotto il maggior numero di innovazione all'interno del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione protagonisti sempre i dati questo attenzione perché vi parlo di tutto questo perché in questo processo i dati sono assolutamente centrali in tutto quello che sta accadendo nel 2016 cosa è accaduto beh insomma abbiamo fatto la legge di riforma abbiamo innovato il CAD non vi state applicando nominiamo un commissario straordinario nominiamo un team per la trasformazione digitale che farà un lavoro pazzesco di cui adesso stiamo toccando come dire i benefici tra virgolette tutta la strategia cloud di cui parleremo tra un attimo nasce dal lavoro fatto di catalogazione di tutti i CAD fatto dal team per la trasformazione digitale il team per la trasformazione digitale si congeda col presidente del consiglio dei ministri e dice attenzione io me ne sto andando però devi nominare un ministro perché qui ci sono talmente tante cose da fare talmente tante attività per le quali siamo indietro rispetto agli obiettivi dell'Unione Europea agenda venti venti ce lo chiede l'Europa avrebbe da dire che ci vuole un ministro viene nominata Paola Pisano Paola Pisano col DL semplificazioni del duemila e venti è lo switch off del ventotto febbraio del duemila e ventuno che obbligava tutte le pubbliche amministrazioni ad avviare i progetti per erogare i servizi online dall'ennesimo scossone duemila e ventuno la strategia di Vittorio Colau già presente con un suo pacchetto abbastanza cospicuo nel primo governo Conte entra nel governo Draghi ed è colui che sta guidando la transizione digitale lui è ministro per la transizione digitale attenzione non è digitalizzazione non è ministro per la digitalizzazione come ancora si chiamava Paola Pisano e come si chiamava il primo Lucio Sanca ma ministro per la transizione digitale come si chiama l'acronimo RTD responsabile per la transizione digitale quello che ogni pubblica amministrazione deve nominare per guidare questa transizione all'interno della propria PA piccola o grande che sia ventuno ventisei siamo nella strategia del piano nazionale di ripresa e resilienza che attenzione parte con la prima missione che è esattamente il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana una nota importantissima che sottolineo sempre il piano nazionale di ripresa e resilienza parte a pagina tre con un grafico gigantesco dove dice il nostro posizionamento rispetto agli altri ventisette paesi dell'Unione Europea in tema di competenze digitali ne parleremo tra un attimo cosa vuol dire vuol dire dobbiamo cercare di spendere il più possibile quei soldi per innalzare quel livello per far transitare tutti i cittadini soprattutto tutti quelli che in questo momento sono fuori da tutti questi ragionamenti altrimenti continueremo a raccontarcela tra di noi il professore Alessandro Lovari che penso sia transitato anche in queste attività la chiamava retorica dell'informatizzazione cioè quel fenomeno per cui se n'è sempre parlato ma stavolta è la volta buona ma stavolta però non ce l'abbiamo mai fatta non ce l'abbiamo mai fatta perché nel momento in cui non tutti i cittadini hanno quelle competenze tali che gli consentono di accedere a queste cose meravigliose che stanno creando perché badate bene i servizi che noi eroghiamo pubblici qualitativamente sono tra i più elevati nell'Unione Europea lo vedremo ce lo dicono i dati però abbiamo un dato pessimo sul loro utilizzo i cittadini non li utilizzano ed esistono insomma delle ragioni strutturali anche abbastanza importanti allora l'ultimo miglio molto velocemente mi interessa sottolineare che sotto la guida di Diego Piacentini che poi è andato avanti fino al al 2018 e poi è stato seguito da Luca Tias che ha indicato Paola Pisano è in quel periodo che è stata avviata la strategia che adesso è stata possa in essere ed è dentro il piano nazionale di riprese e resilienza cosa hanno fatto hanno cercato di rimmaginare tutti i servizi pubblici mettendo dentro il piano triennale che è quel documento strategico che ogni anno l'Agenzia per l'Italia Digitale presenta al Parlamento per dirgli cosa c'è da fare cosa c'è da cambiare quanto bisogna spendere per fare la transizione digitale ha focalizzato quei punti importanti che poi sono quelli che stiamo vedendo realizzati il cloud la strategia cloud di cui parleremo tra un attimo l'anagrafe nazionale della popolazione residente che abbiamo visto finalmente completata e non avremmo mai immaginato che sarebbe accaduto perché sembrava un'opera apocalittica voi immaginate tutte le anagrafi comunali di ottomila comuni tutte con software diversi tutte con banche dati che parlavano linguaggi assolutamente diversi che quindi era impossibile incrociare matchare come si dice in un linguaggio tecnico per estrarre informazioni perché parlavano tutte lingue diverse quella famosa immagine di Sergio Mattarella che dal suo studio scarica i suoi 15 certificati e non lo può fare solo Sergio Mattarella lo può fare ogni cittadino italiano è resa possibile dal fatto che oggi esiste l'anagrafe nazionale della popolazione residente quindi in un'unica anagrafe tutti i dati di tutti i cittadini italiani inclusi quelli residenti all'estero dati che parlano tutti la medesima lingua e che quindi in un'ottica di semplificazione consentono a me cittadino di connettermi ad ANPR con il sistema pubblico di identità digitale con speed o con la carta di identità elettronica perché è evidente devo dire chi sono esattamente come prima presentandomi in un ufficio pubblico dovevo mostrare la carta di identità adesso per accedere a un servizio online devo dire chi sono con il mio speed o con la mia carta di identità elettronica e posso fare i miei trasferimenti di residenza posso scaricare i miei certificati sono quindici non sono tantissimi però mi danno l'opportunità di non farmi quelle file pazzesche che dovrei farmi andando allo sportello sottolineando sempre che chi vuole continuare a fare le file va e continua a farsi le file quindi non è stato uno switch off non è stato uno spegnimento di servizi per alcuni cultori del tema è proprio questo il problema cioè che noi non facciamo lo switch off diamo sempre il doppio binario quando abbiamo fatto uno switch off l'esempio che viene fatto è sempre quello della fatturazione elettronica del 2015 ha funzionato e secondo gli esperti di scienza dell'informazione forse dovremmo farne qualcuno in più di switch off però la bilancia ricordiamoci sempre che c'è una fetta elevatissima di cittadini che non sono in grado di usare speed né dal computer a parte che la stragrande maggioranza dei cittadini non hanno più il computer perché il computer è quasi completamente scomparso dalle case perché anche i ragazzi non si regala più il computer per la cresima e la comunione come prima ma si regala lo smartphone la stragrande maggioranza dei cittadini non sanno usare speed non hanno la più pallida idea di che cosa sia questa diavoleria e preferiscono continuare a andare alle poste o al comune a farsi la propria coda la propria coda e avere il bel documento cartaceo carta canta che per noi tanto vale pagopia era nella strategia del team per la trasformazione digitale quindi il nodo unico dei pagamenti che fa sì che tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione avvengano attraverso questa piattaforma alla quale noi possiamo accedere tranquillamente sia dallo smartphone che dalla nostra postazione desktop speed e cie che sono le due nostre carte d'identità l'identità digitale la carta di identità elettronica la piattaforma nazionale dati che racchiude dati govit si chiama così tutte le banche dati pubbliche sia quelle open che quelle non open vedremo la differenza infine l'accesso in mobilità e servizi attraverso l'applicazione io alla quale ovviamente mi devo sempre loggare utilizzando la mia identità digitale ecco tutto questo nasce con la riforma Amadia del 2015 e dentro la riforma Amadia del 2015 dal 2016 il team per la trasformazione digitale comincia a buttare giù quegli schemi quei documenti quei progetti che oggi ci consentono anche attraverso i soldi del piano nazionale riprese residenza di vedere i risultati di quell'approccio di sei anni fa allora cosa succede con Paola Pisano con Paola Pisano succede che questo è il vero primo switch off cosa ci dice dal 28 febbraio cioè scusate entro il 28 febbraio tu comune tu pubblica amministrazione mi devi dimostrare che stai avviando dei progetti per fare in modo che tutti i servizi che tu eroghi siano erogati attraverso il portale online portale online al quale si dovrà non si potrà si dovrà accedere solo ed esclusivamente con speed con carta di identità elettronica o con carta nazionale dei servizi il nostro tesserino magnetico eh sanitario tutta una serie di obblighi accesso a tutti i servizi della PA tramite speed eccetera eccetera domicilio digitale per i professionisti anche non iscritti agli albi allora il domicilio digitale cioè la PEC in questo momento è obbligatorio per tutti coloro che sono iscritti all'albo imprese per tutti coloro che sono iscritti agli albi professionali architetti ingegneri eccetera eccetera per le pubbliche amministrazioni punto sono in questo momento abbiamo due albi uno che prende tutti i dati dal registro imprese l'altro è quello IPA delle pubbliche amministrazioni non esiste ancora il catalogo delle PEC dei cittadini e non esiste ancora l'obbligo per i cittadini di aprirsi una casella di posta elettronica certificata che ricordiamolo dà valore a quella comunicazione via mail quasi anzi come se non più con un valore giuridico ancora più elevato di quello che ha la famosa raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione legale istituzionale è quella per posta elettronica certificata non esiste ancora l'obbligo dei cittadini però gliela chiedo se deve partecipare a un concorso se deve inviare un'istanza ad un ente pubblico sono svariati i contesti nell'ambito dei quali ormai ai cittadini è chiesto di utilizzare obbligatoriamente la posta elettronica certificata infatti stiamo arrivando a quel concetto di obbligatorietà anche se la tutela deve scattare in n modi insomma i decreti legge lo prevedono per tutti quei cittadini che non hanno la possibilità di usare la PEC e non vogliono usarla perché poi il problema del divario digitale italiano è di due tipologie non so usare la PEC parliamo più in generale non so usare internet non uso internet perché non ho la rete non voglio usare internet è il famoso divario culturale che è quello più difficile da sconfiggere che impatta anche moltissimo sulla transizione digitale della pubblica amministrazione vado veloce qui ve lo leggerete con calma la sintesi è che dentro quel DL semplificazioni per la prima volta vengono dati dei compiti ben specifici ai comuni con un codice di condotta tecnologica che per la prima volta viene introdotto nell'ordinamento italiano e che sta prendendo forma anche questo e proprio soltanto in queste settimane in un'ottica del rafforzamento della piattaforma nazionale dati questo è sempre l'obiettivo raggiungere quello che con un concetto europeo viene chiamato digital single market il mercato unico dei dati che quindi consenta l'interoperabilità delle banche dati quindi banche dati non solo a NPR che comunicano tra di loro che danno la possibilità di incrociare i dati e quindi di avere in maniera semplificata i cittadini un servizio alla pubblica amministrazione informazioni sui cittadini che rendano servizi più efficaci altre piattaforme dati era un capitolo a parte del DL semplificazioni all'interno del quale troviamo tutta una serie di piattaforme dati che necessariamente si sarebbe dovuta implementare ma la vera innovazione di quel DL semplificazioni è questa allora da sempre purtroppo abbiamo dovuto rispettare l'articolo 90 del codice dell'amministrazione digitale codice dell'amministrazione digitale composto da 92 articoli il novantesimo è quello che ti dice senti io ti ho detto di fare tutte queste cose però le puoi fare solo con i soldi che hai non ti do un penni di più devi cercare il più possibile di raggiungere questi obiettivi sfruttando le risorse previste a legislazione vigente cioè non ce ne sono mai state non ce ne sono mai state fino a quel decreto semplificazioni che introduce il famoso fondo innovazione in quel momento siamo in stato lo ricordo pre PNRR non era ancora successo nulla poi in realtà sono arrivate altre vagonate di soldi però in quel momento era la prima porta che si apriva verso risorse che non fossero quelle già in possesso dei comuni si chiamava fondo innovazione era di 50 milioni 43 milioni per i comuni in transizione entro il 28 febbraio e quasi 7 per l'istituzione del servizio civile digitale altra iniziativa lodevole che comincia in quel momento e che adesso diventa strutturale con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza che fa sì che in ogni comune ci siano dei giovani che decidano di mettere a disposizione il proprio tempo all'interno del servizio civile universale per affiancare i cittadini che hanno delle difficoltà particolari nell'erogare i servizi cito la città di Nuoro perché è quella che prima di tutti gli altri in Sardegna lo ha fatto prima ancora che ci fosse il piano nazionale di ripresa e resilienza con uno sportello fisico che viene aperto due o tre volte a settimana di pomeriggio si può anche prendere appuntamento ma altrimenti ci si reca e lì ti spiegano che cos'è speed ti aprono speed ti danno la possibilità di un minimo di affiancamento sull'utilizzo di speed cosa che dovrebbe accadere in tutti i comuni che accade già da n anni in Emilia Romagna con i famosi centri pane internet che sono stati aperti più di dieci anni fa e non è un caso che siano stati portati come esempio dalla commissione europea nell'approvare il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza ci hanno detto fate come stanno facendo loro copiate loro i punti pane internet sono una cosa meravigliosa che eroga servizi ai cittadini accompagna i cittadini nel processo di digitalizzazione fa corsi ai cittadini ovviamente tutte attività gratuite per le quali il cittadino deve avere semplicemente la volontà di farsi coinvolgere ma fanno anche molte azioni di coinvolgimento nei territori torniamo a noi per la prima volta col fondo innovazione compaiono questi 50 milioni ben allora i comuni italiani ne sono 8.000 ben 7.246 comuni inviano i progetti quindi un grosso successo il 92% dei comuni italiani inviano progetti e il processo di transizione comincia faccio notare con uno switch off è stato detto ragazzi qui entro il 28 febbraio mi dovete dare prova del fatto che voi questa transizione la state facendo come inviandomi un'idea di progetto che noi vi finanzieremo a valere su questi 50 milioni di fondo sui 43 milioni di fondo per i comuni e così questa transizione comincia a partire con il decreto semplificazioni dello scorso anno qui siamo già nell'era diciamo nuovo governo governo Draghi questo è il decreto Brunetta vengono per la prima volta nella storia introdotte le sanzioni violazione degli obblighi di transizione digitale non era mai stato scritto da nessuna parte quindi per la prima volta nel corpus normativo italiano è stato introdotto un procedimento che parte da Agid a campione o su indicazione del difensore civico digitale che verifica che nelle singole pubbliche amministrazioni si stiano raggiungendo quegli obiettivi per cui tu hai presentato i progetti entro il ventotto febbraio che adesso quegli obiettivi per cui stai prendendo i soldini dal piano nazionale di ripresa e resilienza che dobbiamo rendicontare periodicamente il motivo per cui il codice dell'amministrazione digitale è uno dei più disapplicati della storia è perché non c'è all'interno uno straccio di sanzione per tutte le pubbliche amministrazioni che in qualche modo non seguono questo cambiamento cosa c'è anche qui velocemente con un particolare accento sui dati nell'articolo 41 del DL semplificazioni 2 dello scorso anno che l'Agid monitorerà il rispetto delle norme sull'uso del digitale da parte della PIA e i dirigenti che si renderanno responsabili di frenare la transizione al digitale pagheranno con sanzioni economiche fino al licenziamento tra i comportamenti ci sono guardate quanto c'è dentro il tema dei dati la mancata ottemperanza la richiesta di dati documenti informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri questo è la mancata ottemperanza alle istanze foglia quando il cittadino mi chiede dei dati o delle informazioni che sono in possesso della pubblica amministrazione e accampa motivazioni campate per aria per cui non me le vuole dare la violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti tramite Pago PA arrivato all'altro riquadro rosso l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili accessibili le proprie base dati ancora una volta i dati e così via ci sono tutta una serie di obblighi da ottemperare lo rimarco la vera novità è che finalmente accompagnano le sanzioni cosa è accaduto in questo periodo allora guardate nell'agosto del 2019 dentro a NPR c'erano 2957 comuni nel gennaio 2021 siamo già ad un anno dalla pandemia 7211 quasi tutti ottobre 2021 7739 gennaio 2022 tutti i comuni sono dentro a NPR è accaduto in una frazione di tempo così come in una frazione di tempo ha galoppato il cursore che ci dice quante identità digitali sono state rilasciate quanti pagamenti su Pago.pa quanto è stata scaricata l'applicazione io è la prima volta che in un digital store un'applicazione pubblica viene scaricata più di Facebook ok là sotto sono rimasti i riferimenti al codice dell'amministrazione digitale come da slide insomma che uso nel mio percorso all'università da lì la famosa scena di Mattarella con i con i certificati il quindici novembre certificati che ovviamente possiamo scaricarci anche noi per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo potranno essere rilasciati anche in forma contestuale ad esempio in un unico certificato cittadinanza esistesse vita residenza eccetera tutto questo perché finalmente i dati le banche dati con dati disaggregati quindi non più l'informazione Mario Rossi nato a Roma nel cinquantadue ma Mario che può essere incrociato con altri Mario di altri comuni solo in questo modo io posso evitare i duplicati o tutti gli errori che potevano essere generati per esempio dal codice fiscale quando è accaduto due persone avevano lo stesso codice fiscale questa è la marcia di speed che dal che è cresciuta esponenzialmente questo è il dato che ho preso l'altro giorno quando ho messo insieme le slide 26 giugno 2023 siamo a 30 milioni 903 mila identità digitali erogate il numero è praticamente quasi identico per le carte di identità elettroniche però è anche vero che tanti cittadini hanno sia l'uno che l'altra è un numero bellissimo però ricordiamoci che in Italia ci sono 60 milioni di persone adesso e di questi giorni l'ufficializzazione dello speed anche per i minorenni sta per partire c'è la delega per cui io posso utilizzare lo speed di mio padre di mio nonno che non è in grado utilizzarlo per accedere ai servizi che lo riguardano tutto questo è partito col DL semplificazioni della Pisano che ha posto quel limite di quel 28 febbraio dicendo guardate che da ottobre non potrete più erogare servizi se non accedendo con speed o cie la prima a mettersi in carreggiata è stata IMS devo dire tra gli enti pubblici è sempre quella che nonostante a noi non sembri però è una spanna avanti rispetto a tutti gli altri poi hanno seguito stanno seguendo via via tutte le altre nasce io finalmente l'applicazione che ci consente immobilità e anche questa era nel codice dell'amministrazione digitale da tempo immemorabile per la prima volta abbiamo un'applicazione pubblica in questo momento non contiene ancora tantissimi servizi noi l'abbiamo utilizzata soprattutto e qui apro e chiudo l'altra parentesi noi per utilizzare un servizio digitale abbiamo bisogno della carota sempre quindi l'abbiamo usata per 18 app l'abbiamo usata per il bonus 200 l'abbiamo utilizzata per il cashback se non ci fossero state queste operazioni di marketing pubblico probabilmente io non l'avremmo scaricata in così tanti quindi avrebbe continuato a rimanere a vita nel marketplace di Android e di Apple perché nessuno se la filava fino a quel momento e questa è la notizia di questi giorni 7 giugno allora vi ho detto che tantissime delle lovità delle attività che riguardano la transizione digitale le stiamo vedendo soltanto oggi quelle del team per la trasformazione digitale struttura diciamo tecnica commissariale del 2016 la piattaforma delle notifiche è una modalità attraverso la quale la pubblica amministrazione ci notificherà immediatamente le informazioni che ci riguardano le amministrazioni attraverso un proprio funzionario accederanno con speed o c e potranno caricare il documento da notificare al cittadino inserire il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale il cittadino accederà tramite speed o cie per le aziende o persone giuridiche verranno utilizzate speed o cie dei rispettivi legali rappresentanti al mitente verrà fornita data e ora dell'accesso e presa visione dell'atto cioè la pubblica amministrazione da parte del destinatario Pago.pa che gestisce tutta questa operazione invierà al destinatario un avviso via PEC per allertarlo dell'esistenza dell'atto fornendo le modalità di accesso alla piattaforma vi ho messo il link di funzione pubblica che spiega molto più nel dettaglio quello che io vi ho raccontato sinteticamente e anche qui la domanda è sempre la stessa ma tutti i cittadini la possono fare questa cosa sono in grado di vedere quanto è bella la piattaforma delle notifiche nei documenti tecnici si chiama piattaforma di avvisatura è un termine bruttissimo mi piace usare piattaforma delle notifiche e sarà un sistema molto efficace ed efficiente ma nella misura in cui ci sarà un numero elevato di cittadini che saranno messi in grado di utilizzare questo sistema con la rivoluzione nascono all'interno dei singoli comuni piccole rivoluzioni per esempio a Nuoro il certificato si può ritirare ma non solo a Nuoro sto citando Nuoro perché questi sono screenshot di articoli comparsi all'inizio vedete 2 marzo 2021 la delega ai nonni il servizio civile digitale questo è per esempio il comune di Uniferi ma ne potrei citare mille mila di altri comuni che hanno buttato dentro l'applicazione io i propri servizi quindi tutta una serie di piccole rivoluzioni in alcuni casi con affiancamento dei cittadini vedi Nuoro in altri lasciandole al proprio destino quindi la notizia nel giornale abbiamo fatto questa cosa fantastica e nell'applicazione però intanto pochi cittadini leggono il giornale ma al di là di questo di moltissime innovazioni non abbiamo notizia del loro successo perché probabilmente i cittadini non si sono nemmeno accorti che quella innovazione è stata introdotta non gliel'abbiamo detto tutto questo è dentro lo abbiamo detto il corpus unico a livello europeo noi siamo bravissimi a fare le leggi a fare i codici questo è considerato uno dei migliori codici al mondo noi siamo come paese europeo l'unico paese l'Italia che ha un corpus normativo che si chiama codice dell'amministrazione digitale poi l'attuazione è un'altra cosa quindi lì abbiamo tutta una serie di problemi da risolvere però le leggi ce le abbiamo il corpus normativo ce l'abbiamo allora il codice dell'amministrazione digitale si dice che mi dia gli strumenti per attuare la 241 del 1990 quindi quel diritto d'accesso diventa digitale quindi più agevole quindi più efficace sempre nella misura in cui i cittadini possano e attuerebbe il famoso principio diritto alla buona amministrazione quello dell'articolo 97 della Costituzione italiana qui è la slide dove ci diciamo quanto siamo bravi ok poi sappiamo che c'è un risvolto della medaglia però qui ci diciamo quanto siamo bravi tutto quello che c'è nel codice viene attuato da un documento strategico molto importante che si chiama piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione nell'agosto del 2020 viene pubblicato il terzo badate bene i piani triennali se cominciate a scriverli proprio col team per la trasformazione digitale da prima le avremmo dovuti scrivere ma uno dei motivi per cui è stato nominato il team per la trasformazione digitale è proprio perché non stavamo facendo i compiti a casa non stavamo scrivendo il piano triennale per l'informatica siamo al terzo il 10 dicembre 2021 è stato pubblicato il suo aggiornamento il 21 23 è esattamente quello che c'è dentro il piano nazionale di ripresa e resilienza quindi mentre prima il piano triennale veniva scritto dal team oggi viene scritto dall'agenzia per l'italia digitale e si rende conto dell'attuazione del piano in parlamento il presidente del consiglio il ministro delegato in questo caso Vittorio Colau deve rendere conto dell'attuazione di quel piano in parlamento adesso col fatto che dentro il piano nazionale di ripresa resilienza dobbiamo rendere conto anche alla commissione europea dell'attuazione di quel piano quindi si è arricchito di un passaggio in più che renderebbe ancora più seria la cosa perché di fatto se noi non rispettiamo quegli indicatori quegli obiettivi che abbiamo detto che avremmo raggiunto i soldini non ce li danno ecco perché questo è un momento particolare per l'attuazione di quella transizione ed ecco perché ci devono essere i cittadini dentro altrimenti non stiamo facendo nulla per la prima volta abbiamo soldi tanti soldi da spendere per portare avanti i progetti prima la scusa è non avevamo i soldi adesso i soldi ce li abbiamo però dobbiamo metterci dentro tutti anche i cittadini che sono i primi fruttori quelli che più di tutti devono beneficiare della spendita di questo di questo denaro per cui stiamo facendo debito pubblico i piani allora guardate quanto era complesso il primo qui ovviamente non starò a dirvi tutto quello che c'è dentro questo era il primo piano che ha redatto il team per la trasformazione digitale 17-19 era molto complesso guardate quanti insieme sotto insieme di voci ci sono sempre diverse come dire diversi capitoli erano non mi ricordo però insomma si avvicinano a qualche centinaio di pagine si riduce nel 19-21 nel 20-22 quello che poi è diventato 21-23 dentro il PNRR è ridottissimo ok e all'interno di tutti i capitoli si parla di dati a parte che c'è un capitolo dati ma parliamo di dati anche quando ovviamente quando parliamo di interoperabilità che abbraccia tutti i layer del piano di sicurezza informatica vedi regione Sardegna di servizi che non possono essere erogati se non ho i dati che mi consentono di generarli di metterli in piattaforme abilitanti per i cittadini e di memorizzarli in infrastrutture cloud sempre molto velocemente aggiungo che nel nuovo piano allora prima gli obiettivi che dovevamo raggiungere erano quelli di Europa 2020 abbiamo superato Europa 2020 ovviamente non ci siamo dimenticati di tutti quegli obiettivi che in gran parte sono rimasti gli stessi ma sono stati implementati da nuovi obiettivi da raggiungere in quello che viene chiamato decennio digitale europeo il famoso digital compass il 9 marzo del 2021 la commissione ha presentato una visione le prospettive per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030 quindi adesso il nuovo il nuovo obiettivo è raggiungere determinati indicatori entro il 2030 secondo quattro punti cardinali quindi skills le competenze government quindi l'azione della pubblica amministrazione che deve essere sempre più digitalizzate le infrastrutture quindi il cloud e il business tutto ciò che ha a che fare con la digitalizzazione delle imprese delle piccole medie grandi imprese nel nuovo piano triennale ovviamente ci sono tutti gli obiettivi c'è tutto ciò che abbiamo messo dentro il piano nazionale di ripresa e resilienza non so se lo sapete se non lo sapete ve lo dico tutto quello che c'è dentro il piano nazionale di ripresa e resilienza che dovevamo produrre lì seduta a stante presentare entro il 30 aprile non è stato altro che nella maggior parte dei casi aprire i cassetti e vedere quali progetti avevamo già pronti e metterceli dentro perché finalmente ci davano i soldi per realizzare ovviamente per ciò che concede la digitalizzazione avevamo il piano triennale ci abbiamo messo dentro il piano triennale questo ha fatto sì che diventasse la prima missione del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza che una quantità cospicua delle sei missioni sia stata proprio assegnata alla digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione ed è un c'è un motivo insomma deve generarsi quella sorta di circolo virtuoso che parte dal settore pubblico dall'ambito pubblico per erogare servizi più efficaci ai cittadini e che poi a macchia d'olio si allarga ovviamente anche nell'ambito privato spesso accade accade il contrario ci diceva Giovanni Duni tra gli strumenti propri dell'amministrazione digitale dobbiamo ricomprendere i dati memorizzati su supporto digitale quale naturale evoluzione che vada a affiancarsi e gradualmente sostituirsi al rapporto cartaceo quindi da un certo momento in poi i dati diventano centrali come abbiamo visto nel piano triennale ce lo dice anche la commissione europea nell'ottavo considerando che invece sottolinea quanto sia importante il tema dei dati sempre estetamente connesso al tema del riuso io i dati come pubblica amministrazione ce li ho incomodato d'uso sono dei cittadini poi li devo aprire e questo è il concetto che come dire mi dà l'assistra un attimo per parlarvi degli open data li devo aprire perché i cittadini li possano riutilizzare perché anche loro siano in grado di generare informazione e conoscenza non devo più dare ai cittadini informazione e conoscenza devo dargli i dati i dati dai quali prendono origine le decisioni che sto prendendo questo è il il grande principio regolatore eh che dà forza al tema degli open data bene i materiali che hanno bisogno di essere immagazzinati elaborati interpretati per avere valore conoscitivo dal faldone alla banca dati al database il dato diventa dinamico i nuovi verbi sono ricerca modifica elaboratore incrocio scambio di dati tutto avviene perché eh utilizziamo i dati come materia si dice che siano come la creta eh nel bene e nel male che possono essere modellati un po' anche a nostro piacimento perché poi eh anche i grafici e le tabelle sappiamo bene che sono anche molto guidate da come incrocio io come decido io di incrociare i dati i dati pubblici sono beni non cose queste sono alcune affermazioni che vengono dalla dottrina non sono di proprietà della pubblica amministrazione che le detengono nel costruire nel custodire i dati le amministrazioni agiscono per conto terzi i cittadini veri titolari del bene informazione e internet che dà accesso ai cittadini la vera rivoluzione ovviamente eh avviene nel momento in cui eh cioè la vera rivoluzione nell'ambito eh in ambito di digitalizzazione dell'azione pubblica non poteva venire nel settantotto quando ne parlava Giovanni Duni ne poteva venire ancora quando ne parlava ehm nel 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 millenovecento eh novantasette Bassanini c'era la rete però non era ancora accessibile a tutti non era così pervasiva come oggi e internet che dà accesso ai cittadini ai dati e le tecnologie giocano un ruolo determinante contribuando nei processi dell'informazione e di democrazia si dice che i dati siano un bene comune come l'acqua ok questo è eh diciamo il eh il substrato teorico e culturale che sta dietro la teoria degli open data velocissimo quattro layer ehm servizi dati piattaforme infrastrutture tutti abbracciati dal fatto che si debba sempre agire in un contesto di interoperabilità cioè di banche dati che si parlano tra di loro nel massimo della sicurezza perché stiamo parlando dei dati dei cittadini nel nuovo piano ci sono dei target misurabili di cui dovremo assolutamente rendere conto eh all'Europa i principi più importanti digital e mobile first vuol dire che tutti i servizi devono nascere tutti i servizi erogati ai cittadini devono nascere prioritariamente mobile perché? Perché lo sappiamo ce lo dicono altri dati che questo oggetto diventato ormai il prolungamento della nostra mano è il dispositivo che più di tutto ci fa accedere ci farebbe accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione quindi nel piano triennale c'è scritto cara pubblica amministrazione tutti i servizi che da questo momento genererai progetterai devono nascere mobile first quindi dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini mobile first vuol dire non only ok? vuol dire che potrò continuare a accedere anche attraverso le altre mobilità ma che devo fare in modo che nascano mobile non si dice sempre quando si progetta un servizio digitale che è sempre più difficile trasformare un servizio che è nato analogico in digitale ed è questo il motivo per cui il team per la trasformazione ha scritto nel piano facciamoli nascere già digitali così poi non abbiamo tutti quei problemi a trasformarli da analogici digitali ed è quello che in teoria dovrebbe accadere digital identity only vuol dire posso accedere solo con speed CE o CNS cloud first vuol dire io pubblica amministrazione mi devo porre come obiettivo quello di memorizzare non nei CED locali del lo scantinato del mio comune che viene allagato che viene scosso dal terremoto come è accaduto ad Amatrice che hanno rischiato di perdere tutta la banca dati come è accaduto a Bitti con l'alluvione ok non devono più esistere i CED dislocati e a rischio con i dati dei cittadini dentro devo memorizzare in cloud quindi in modalità remota con tutti i requisiti di sicurezza che sono dentro la strategia cloud servizi inclusivi accessibili sembra una banalità ma è l'obiettivo più difficile da raggiungere inclusivo significa tutti i cittadini quindi e con questo tutti i cittadini non mi sto riferendo solo a quelli che hanno disabilità che sono dentro invece l'aggettivo accessibili ma tutti i cittadini di qualunque età di qualunque ambito sociale di qualunque spaccato del territorio italiano quindi non dovrebbero più esistere le famose zone grigie zone bianche dove la rete non arriva dove internet veloce non c'è tutti i cittadini devono quindi questa inclusività deve essere interpretata a 360 gradi dati pubblici un bene comune quindi aprili i dati che hai se non sono coperti da privacy da segreto militare da segreto istruttore aprili restituisci ai cittadini interoperabile by design devo progettare servizi che si parlino tra di loro non posso io comune tutte le volte comprare un software diverso anzi ragioniamo anche al contrario dobbiamo cercare anche di monitorare quei comuni che volendo fare sempre in maniera diversa dagli altri spendono soldi pubblici per acquistare un software che magari è già stato acquistato da un'altra pubblica amministrazione ed ottiene la stessa efficacia esiste un meraviglioso catalogo del riuso del software pubblico andiamo su quel catalogo e vediamo se c'è quello che mi serve riuso quello che hanno già comprato altri ok non è necessario che io tutte le volte acquisti un nuovo software tutto questo anche in un'ottica di interoperabilità devo fare in modo che le diverse banche dati diverse software si parlino tra di loro sicurezza e privacy da design quasi non ha bisogno di ulteriori sottolineature è evidente che dobbiamo mettere al primo posto di tutto questo ragionamento la sicurezza dei dati dei cittadini che manipoliamo è la privacy by design vuol dire che fin dalla progettazione del servizio io devo pormi il problema della privacy dei cittadini e della sicurezza dei dati di quei cittadini user centric vuol dire che l'applicazione che creo deve avere a centro il cittadino non il servizio cosa voglio dire posso creare l'applicazione più bella del mondo non la usa nessuno perché il cittadino ha moltissime difficoltà e ha cercato anche di dirmelo in tutti i modi ad utilizzarla perché non è si dice un gergo tecnico amichevole ok nel piano triennale c'è scritto non devi fare l'applicazione bellerrima devi fare quella che il maggior numero di cittadini sia in grado di utilizzare data driven devo utilizzare devo prendere le mie decisioni guidate dai dati se io faccio un bellissimo sito internet e i dati mi dicono che è poco visitato che quel servizio online è poco utilizzato mi faccio guidare da quei dati e prendo la decisione di intervenire sulla progettazione del sito internet e dico all'azienda che me l'ha progettato ascolta mi hai fatto un sito meraviglioso però purtroppo gli analytics mi dicono che lo usano in pochissimi puoi intervenire per correggere questo aspetto che magari ostacola il fatto che i cittadini lo possano utilizzare in questo senso ma anche in senso molto più ampio si parla di data driven once only allora di once only che adesso vi dirò che cos'è ne parlava Giovanni Duni nel 1978 lo scriveva Franco Bassanini nelle sue leggi allora cos'è il principio del once only del una sola volta del cittadino che deve che deve andare solo una volta in uno sportello fisico online a presentare un determinato documento dopodiché se è un documento un dato già in possesso della pubblica amministrazione non me lo deve richiedere ce l'hai già nella logica della interoperabilità tra pubbliche amministrazioni quel dato quel documento e questo è la logica del funzionamento di ANPR dell'anagrafe nazionale della popolazione residente quel documento la famosa fotocopia del documento di identità è illegale non me la devono più chiedere il fatto che la chiedano ancora ed è anche paradossale il fatto che la chiedano in processi in cui io ho avuto accesso a quel determinato servizio con speed vuol dire con speed io ti ho già detto chi sono sei tu che stai certificando chi sono perché speed me l'ha dato un'organizzazione che tu hai certificato perché dicesse chi sono non mi puoi chiedere la fotocopia del documento di identità allegata senza contare poi tutte le altre diavolerie quando chiedono la PEC il documento con firma elettronica su cose che mi vengono chieste con accesso che ho avuto prioritariamente con speed è follia da come dire subito istanza al difensore civico digitale che nessuno sa chi è esiste è un ufficio che sta ad Agid e che monitora questi accadimenti che però il cittadino non sa di poter segnalare perché non sa che sono dei diritti parliamo dei famosi diritti di cittadinanza digitale di cui pochissimi cittadini sono a conoscenza e consapevoli ecco il più violato è il principio del once only di cui si parla da tutta una vita del famoso cittadino che va ad un ufficio all'altro con le scartofie portandolo da un ufficio all'altro quando in un'ottica di interoperabilità il cittadino potrebbe stare seduto a casa e i cittadini agire per suo conto il principio del once only è scritto nel CAD nelle leggi nei piani triennali nei DL semplificazioni anche l'ultimo DL semplificazioni dedica un articolo al principio del once only niente non ce la possiamo fare ok transfrontaliero by design significa che siamo in Europa e che quindi anche nella progettazione dei nostri servizi dobbiamo assolutamente tener conto degli standard europei che devono guidarci in questa progettazione codice aperto ok se commissiono la progettazione di un programma ad un'azienda di Cagliari quel programma poi lo utilizzo nell'amministrazione comunale di Cagliari nel sito istituzionale di Cagliari lo condivido con codice aperto perché anche altre pubbliche amministrazioni che magari hanno le stesse esigenze del comune di Cagliari quando ha progettato quell'applicazione possano utilizzarlo quindi non me lo tengo tutto per me ma faccio in modo che quei soldi pubblici che sono stati spesi siano possano essere come dire sfruttati eh anche da altre amministrazioni che magari devono soddisfare lo stesso fabbisogno di innovazione non leggerò i capitoli ve li leggerete voi questi sono i cinque capitoli eh del del piano triennale ho messo in grassetto banche dati dati c'è veramente in tutti i capitoli eh le parole chiave mobile first user experience eh il design il cloud sono tutti i temi che ci accompagneranno nell'attuazione eh del piano ecco vedete le nuove piattaforme previste alla realizzazione dei cup integrati ci piacerebbe di inad la piattaforma che gestisce l'indice dei domicili digitali delle dei cittadini ecco questo è il terzo catalogo che ancora non esiste quindi il catalogo delle pec dei cittadini che non sono iscritti né al registro imprese né agli albi professionali la piattaforma museale e poi ovviamente l'evoluzione delle piattaforme abilitanti speed pago PA NPR eccetera tutto in un'ottica di interoperabilità e secondo il modello cloud first della PA eh qui la parentesi è d'obbligo perché sta accadendo in questi giorni allora con l'obiettivo di raggiungere un maggiore grado di autonomia nella gestione dei nostri dati il team della trasformazione digitale fu incaricato di redigere il primo piano e aveva identificato undicimila data center i famosi CED ovviamente stiamo parlando di tutta Italia nelle oltre ventiduemila pubbliche amministrazioni centrali e periferiche quasi ogni comune ne aveva uno qui devo cominciare a correggere la slide e mettere il verbo al passato pagando affitti di edifici consumi energetici eccetera due miliardi all'anno il costo complessivo non avendo sicurezza ricordiamo Amatrice ricordiamo il nostro comune di Bitti non avendo sicurezza nella custodia dei dati in centri abitati spesso in zone sismiche o a rischio idrogeologico il team pensa quindi di aspettate che io ho questa barra che non mi fa vedere ok pensa in base al valore al peso dei dati di suddividere questo enorme patrimonio informativo pubblico attualmente custodito in 22.000 amministrazioni in base a due tipologie di servizi questo ragazzi ragazzi vi chiamo ragazzi questo è il presente quello che stiamo attuando allora perché non vanno avanti le slide eccoci qua allora servizi non essenziali e servizi essenziali o strategici quindi sanità trasporti banche due tipologie di servizi ai quali associare due livelli di sicurezza e due tipologie di cloud questo è quello che sta accadendo in questi giorni tutte le pubbliche amministrazioni stanno dicendo se sono cloud A tipologia A o tipologia B perché i soldi per realizzare tutto questo che prima non avevamo ci stanno arrivando dal piano nazionale di ripresa e resilienza con la famosa strategia cloud allora tipologia A da questo dire in più cloud attraverso fornitori di servizi individuati da Agile c'è un marketplace online dove il singolo comune entra e decide che cloud scegliere in base alle proprie esigenze se non ha se ha un servizio non essenziale ok tipologia B piccolo numero di data center massimo due tre pare si mormora che un data center sarà localizzato anche in Sardegna ma non sappiamo ancora se sarà così almeno non stanno stoccando scorie stanno stoccando dati anche qui ci sono i pro e contro però come dire meglio dati di scorie rappresenterà un piccolo numero di data center dislocati in diversi punti strategici del territorio nazionale idonee e non a rischio idrogeologico o sismico questa è quella che si sta attuando in questi giorni perché entro il 18 luglio 20-22 cioè praticamente dopo domani le pubbliche amministrazioni devono effettuare questa classificazione questo è esattamente quello che sta accadendo come sapete i bandi del PNRR che stanno mettendo purtroppo a durissima prova le pubbliche amministrazioni perché non hanno neanche il personale con le competenze in grado di supportare questa mole di cambiamento che ci sta cadendo addosso i bandi arrivano tutti i giorni questa è la scadenza la quale devono ottemperare le pubbliche amministrazioni entro il 18 luglio 20-22 classificando i dati dei propri server la famosa strategia cloud ok l'altro obiettivo cosa non meno importante è creare un polo strategico nazionale cosa vuol dire fare in modo avviare una strategia perché i dati dei cittadini italiani siano in cloud nel territorio italiano ok cosa che non è in questo momento dovete sapere che moltissimi dei nostri dati a parte che molti non sono proprio in Europa e quindi non sottostanno alle leggi europee qui si aprono tutta una serie di problematiche di cui vi parlerò tra un po' quando parleremo dei big data ma molti non sono proprio nel territorio italiano secondo la strategia cloud nazionale noi vogliamo assolutamente che le i cloud all'interno dei quali vengono memorizzati i dati delle pubbliche amministrazioni di una certa rilevanza oppure no siano in Italia siano nel territorio italiano e quindi vuol dire che sottostanno alle leggi italiane così come vogliamo che siano nel territorio europeo perché devono sottostare per forza al nostro GDPR il fatto che la maggior parte dei dati e ve lo anticipo che vengono generati da noi quando siamo all'interno dei social non siano in Europa ma siano negli Stati Uniti rendono le mani libere a quei signori che purtroppo sfruttano i dati a loro piacimento perché non sottostanno alle norme del GDPR e tutte le altre norme che in questo momento la Commissione Europea sta redigendo per rispondere allo strapotere delle big companies americane e cinesi lo vedremo tra un attimo perché non deve accadere questo stiamo parlando di sicurezza di interoperabilità allora questa cosa pazzesca gravissima è accaduta a casa nostra ne abbiamo avuto notizia questo è il pezzo della Nuova Sardegna del 26 giugno quindi veramente una manciata dei giorni fa 155 gigabyte di file un bottino gigantesco un elenco lungo 9000 fogli di carta quindi tutti i dati disponibili 9000 fogli di titoli di nomi di file ok non 9000 fogli di dati 9000 fogli di nomi di file e cartelle quindi all'interno di quei file di cartelle gazzilioni di dati come direbbe qualcuno trafugati e messi online inclusi molti dati sensibili di cittadini sardi ok questo è il bottino digitale è accaduto a febbraio noi in realtà ne abbiamo avuto notizia solo in questi giorni cosa potrebbe essere accaduto in realtà si stanno un po' rimbalzando la palla quelli di Sardegna IT perché dicono che è l'agenzia in house della regione Sardegna che gestisce questo grosso patrimonio di dati della regione cosa potrebbe essere accaduto che è verosimile allora esiste una zona di internet che si chiama dark web che non è quella accessibile con i nostri comuni browser non è il world wide web a cui tutti i cittadini possono accedere è una zona diciamo oscura grigia all'interno della quale succede di tutto per esempio si vendono c'è la compravendita di dati c'è un vero e proprio marketplace in cui è possibile acquistare dati là dentro ci sono anche tutti i dati che vendono i colossi le big companies americane e quindi se c'è un mercato vuol dire che c'è gente che gli chiede questi dati ed è evidente lo abbiamo chiamato Stefano l'ha chiamato all'inizio il petrolio del nuovo millennio perché valgono quanto l'oro quanto il petrolio ok là dentro non sono finiti inizialmente i dati dei sardi ci sono adesso è finita una porta d'accesso al server dei sardi cioè qualcuno sbadatamente o no ha messo là dentro una modalità attraverso la quale è stato possibile accedere ai server della regione sardegna per un paio di mesi ci hanno frugato hanno guardato cosa c'era di interessante e hanno cominciato uso il verbo cominciato perché non sappiamo come andrà avanti questa cosa non hanno ancora manco chiesto il riscatto perché normalmente viene chiesto un riscatto quando vengono trafugati dei dati così hanno cominciato a pubblicare serie di dati sempre nel dark web io non ci sono andata però chi ci è andato mi ha detto che c'è tutto me lo posso scaricare quantità in mani di dati anche di cittadini sardi che purtroppo purtroppo può essere solo l'inizio perché intanto non ci hanno ancora fatto vedere tutta la mercanzia quindi non sappiamo esattamente a che cosa a quanta mole di dati questi abbiano avuto accesso non hanno ancora chiesto il riscatto quindi può essere solo il primo capitolo di un lungo romanzo criminale orribile aggiungo alla fine è tutto molto grave da conseguenze inimmaginabili ma per la scarsa cultura del dato diffusa tutto questo il cittadino non lo sa in pochissimi hanno dato peso a questa notizia ora io la sto seguendo sui nostri quotidiani locali io leggo sia la Nuova Sardegna che l'Unione Sarda la Nuova Sardegna gli sta dando molto peso nel senso che ogni giorno gli dedica l'articolo è sempre più piccolo il primo giorno una mega pagina sta cercando di raccontare quello che sta accadendo ma io ho dubbi che i sardi in questo momento stiano pensando all'hacker al dark web alla trafugazione di dati che c'è stata nei server della regione sardegna per il semplice motivo che abbiamo veramente poca sensibilità verso questi temi e con poche competenze per valutarne lo spessore e la gravità in questo caso è accaduta una cosa veramente veramente molto grave nell'ultimo capitolo del piano triennale per l'informatica nella PA abbiamo la cosiddetta governance della trasformazione digitale cioè chi è che gestisce tutto questo ambaradan com'è che faccio a fare tutte quelle cose che tu team della trasformazione digitale dall'alto delle tue competenze mi dici che devo fare e che adesso l'Europa mi chiede di fare se non mi dai soldi allora esiste una specie di superman ormai lo abbiamo chiamato così che si chiama responsabile per la transizione digitale è normato dal codice dell'amministrazione digitale all'articolo diciassette quindi esiste dal duemila e quindici dalla riforma Madia nessuno sapeva della sua esistenza nei primi due anni ne furono nominati pochissimi poi ci furono ci furono diverse circolari della funzione pubblica per spingere le pubbliche amministrazioni alla nomina del responsabile digitale adesso è diventata la figura centrale perché fanno capo a lui tutti gli adempimenti di transizione digitale del piano nazionale di ripresa e resilienza ma non soltanto nello stesso articolo diciassette del codice dell'amministrazione digitale c'è anche il difensore civico digitale di cui oggi non parleremo che è colui al quale che poi non è una persona ma è un ufficio ci si può rivolgere per segnalare la violazione di un diritto di cittadinanza digitale la pubblica amministrazione che non mi consente di pagare la multa elettronicamente il mancato accesso ad alcuni servizi tutto ciò che ruota intorno ai click day e lì ci sarebbe da obberare di segnalazioni il difensore civico digitale per la disuguaglianza generata tutte le volte che si accede a un tributo attraverso il click day eccetera eccetera ma voglio concentrarmi sull'RTD sul responsabile per la transizione digitale cosa dice l'articolo diciassette le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal governo a tal fine ciascuna pubblica amministrazione affida ad un unico ufficio dirigenziale attenzione un ufficio quindi non è detto che debba essere una persona un ufficio un gruppo ovviamente nelle piccole PA il comune da 3.000 abitanti o da 5.000 abitanti non può avere un ufficio uno staff ok avrà la persona individuata che sarà l'RTD il responsabile per la transizione digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale è aperta di servizi facilmente utilizzabili e di qualità attraverso una maggiore efficienza ed economicità perfetto come sempre la norma è bellissima questo tale superman perché questo signore deve occuparsi di erogare servizi efficaci ed efficienti adesso andiamo in soldoni fare in modo che tutti i servizi del comune piccolo siano dentro io app che tutti i cittadini utilizzino agevolmente speed e cie perché lui ha anche la responsabilità che i servizi siano utilizzabili con efficacia ed efficienza quindi deve anche mettersi sulle spalle quel problemino che si chiama digital divide se nel comune pochi cittadini stanno usando poco io o le applicazioni dentro io deve porsi il problema e quindi magari organizzare dei momenti nei quali i cittadini possano essere accompagnati nell'utilizzo di questi servizi ma non solo l'RTD interagisce con Agid l'agenzia per l'Italia digitale manda periodicamente il report che dice che cosa sta facendo la sua PA per ottemperare agli obblighi di quei soldi che gli sono stati dati col fondo innovazione che da questo momento in poi gli si sta dando si è presentato progetti per il piano nazionale di riprese e resilienza e tutto in capo a quella persona o a quell'ufficio il responsabile è dotato di adeguate se lo dice sempre all'articolo 17 competenze tecnologiche di informatica giuridica attenzione lo dicono tutti i cultori di questo tema non è un informatico puro non è lo smanettone l'uomo delle password come come dico io è qualcuno che abbia anche delle competenze tali che gli consentano di coinvolgere l'intero gruppo di lavoro non a caso si chiama responsabile per la transizione digitale tutti gli uffici devono transitare non solo il suo quindi deve avere competenze manageriali di informatica giuridica perché perché deve avere un minimo di competenze giuridiche per capire che cos'è una PEC che cos'è una firma digitale quindi non è solo l'uomo delle password che sa come condividere una cartella come funziona la rete ma deve avere anche delle competenze in più rispetto a quelle che potrebbe possedere un laureato in informatica l'RTD della regione Emilia Romagna in un webinar l'altro giorno ha detto preferirei un RTD filosofo piuttosto che un RTD ingegnere proprio perché come dire bisogna avere anche una vision particolare di dove ci porta il digitale perché certe scelte le puoi operare solo se hai una un livello di misurazione dell'impatto del digitale un po' più ampio di quello che può avere un laureato in informatica vi faccio un altro esempio l'assessore all'innovazione del comune di Torino ha scelto scelta politica evidentemente di non accogliere le richieste che gli sono arrivati da un certo numero di cittadini che gli chiedevano di mettere delle telecamere in una certa area di Torino l'assessore all'innovazione è una persona che ha delle competenze molto elevate in ambito digitale e manageriale e ha fatto l'esempio ha detto io per esempio ho accettato di buon grado quello che è stato fatto dall'amministrazione uscente che ha scelto dei droni per presidiare controllare i parchi pubblici soprattutto d'estate in giorni di temperature elevate per individuare immediatamente gli anziani che avessero delle difficoltà segnalarlo al ai centodiciotto a chi comunque poteva intervenire molto più efficacemente con il drone che individuava immediatamente la situazione ma non accetto il controllo di massa delle telecamere dobbiamo utilizzare altri strumenti per educare i cittadini a comportarsi in una determinata maniera senza controllarli ed è il ragionamento che un po' dovrebbe fare il responsabile della trasformazione digitale o parliamo di un livello più alto il responsabile politico di quella pubblica amministrazione che poi attenzione chi nomina l'RTD è il responsabile politico che sceglie l'RTD immaginando il digitale in un'ottica etica torniamo alla slide numero due le tecnologie digitali non sono né buone né cattive dipende da come le use e dall'etica che sfrutti del tuo pensiero critico nell'utilizzarle nel bene e nel male l'assessora del comune di Tolino ha scelto di non controllare i cittadini anche se in quel momento le telecamere gli avrebbero dato un maggior presidio della situazione però si è resa conto che in quel modo avrebbe violato la privacy di tutti i cittadini e non ha voluto farlo l'ha voluto fare nel momento in cui c'erano delle ragioni valide di sicurezza il drone che sorvola i parchi di Torino ok a questo mi riferisco ci si riferisce quando si dice che l'RTD non deve essere necessariamente un informatico prima della legge che è istituito il responsabile per la transizione digitale quindi prima della riforma Madia il CAD che esisteva già dal 2005 prevedeva non la responsabilità di un ufficio ma di ogni singolo dirigente istituiva un responsabile ICT solo per le PA centrali quindi per i ministeri mancava un soggetto competente alle attività di impulso e coordinamento attenzione questa è la cosa più importante che deve fare l'RTD deve essere di impulso anche per tutti gli altri un po' quello che avrebbe dovuto fare nelle scuole l'animatore digitale che non era anche lì l'uomo delle password dell'aula di informatica anche se spesso è stato identificato nell'uomo delle password ma era colui che dovreva trascinare in progetti di didattica digitale tutto lo staff della scuola quindi non tenere per sé le proprie competenze le proprie conoscenze anche qui l'RTD non si deve tenere tutto per sé ma deve far transitare tutti gli uffici di quella struttura pubblica deve convincere tutti del fatto che quel cambiamento che inizialmente può sembrare ostico genera in realtà dei benefici non solo nel becco office quindi all'interno dell'azione interna della pubblica amministrazione ma anche nel front office quindi i cittadini cittadini e imprese diretti e primi fruitori della transizione ma ci dice il referto che ogni anno viene stilato dalla Corte dei Conti al Parlamento che il 67,9% delle nomine effettuate il responsabile per la transizione digitale è privo di competenze specifiche nel campo information technology tale fenomeno è stato riscontrato soprattutto negli enti di minore dimensioni oltre il 70% degli enti che hanno effettuato la nomina ha individuato un soggetto che non detiene specifiche competenze e questo è facile capire perché ho un organico già ristrettissimo mi mancherebbe non solo l'RTD ma anche quello dell'ufficio anagrafe ma anche se devo scegliere se faccio un concorso probabilmente prediligerò altre competenze per cui se che c'è gli assegno il ruolo a lui che un po' di informatica ne capisce in realtà così non si raggiungono gli obiettivi c'è stata una piccola valvola di sfogo adesso con lo sblocco del turnover ma non solo con quella possibilità che è stata data ai comuni di accedere a in PA alla piattaforma pubblica all'interno della quale ci si iscrive per partecipare ai bandi del piano nazionale di ripresa e residenza ma non solo di poter accedere liberamente a delle figure professionali specifiche non solo gli sono stati dati anche dei fondi per scegliere privatamente in qualche modo esternalizzare i servizi ma non si può esternalizzare l'RTD l'RTD deve essere già nell'organico del comune e deve ricoprire un ruolo dirigenziale questo insomma è un tema molto problematico ci sono moltissimi corsi master che preparano gli RTD c'è ogni anno il raduno degli RTD che viene organizzato da Maggioli è un po' considerata la figura chiave di questo cambiamento di questa transizione purtroppo in questo momento non abbiamo delle competenze tali che ci consentano di dire che nelle pubbliche amministrazioni ci sono degli RTD che stanno conducendo insomma con efficacia l'appropriazione partiamo da questo grafico impietoso questi sono i dati dei laureati del 2019 che mettono in evidenza qui erano ancora 28 paesi dell'Unione Europea il tema è le lauree ok in digital economy tutte le materie che ruotano intorno alla digitalizzazione non solo l'Italia è l'ultima ma guardate quanta distanza c'è con la penultima c'è col Belgio siamo lontani anni luce dalla media europea che è quella centrale anzi noi in questo grafico non ci è scusate la media europea in quel grafico che c'è dopo ma siamo lontani anni luce ovviamente da tutti i paesi del nord Europa è un fenomeno strutturale che riguarda in generale tutte le competenze ma in particolar modo le lauree e quindi la preparazione e le competenze del capitale umano in ambito digitale in ambito STEM in realtà vedremo tra un attimo siamo siamo molto ultimi non ultimi molto ultimi perché la cittadinanza è diventata digitale perché c'è NPR c'è Speed c'è la carta di identità elettronica l'applicazione Io c'è il domicilio digitale la firma digitale che vale più della firma olografa ma il cittadino non lo sa c'è il nodo unico dei pagamenti la fattura è diventata elettronica esiste il 730 precompilato che ogni anno contiene dentro sempre il maggior numero di informazioni se voglio scrivere mio figlio a scuola lo devo fare online ma purtroppo in Italia questo ce lo dice il DESI l'Europa circa due terzi della popolazione è considerata con competenze digitali non sufficienti per l'esercizio di una piena cittadinanza digitale è per affrontare la vita e le sfide dei nuovi lavori si chiama esclusione digitale è una nuova forma di disuguaglianza legata alla mancanza di accessibilità alle nuove tecnologie è una vera e propria discriminazione le categorie sono gli anziani le persone con un basso livello di istruzione o non occupate le donne c'è lo spaccato che si chiama proprio gender digital divide le persone in particolari condizioni di salute economiche i disabili gli immigrati le persone detenute uno spaccato di popolazione nazionale tagliata completamente fuori e a priori da tutto ciò di cui abbiamo parlato finora e di cui continueremo a parlare se non ce li buttiamo dentro se non li coinvolgiamo se gli RTD ma non solo gli RTD io dico ogni singolo cittadino deve fare la sua parte in questo senso rivendico molto il ruolo degli attivisti digitali ma ognuno di noi deve essere un piccolo attivista digitale lo dico anche quando faccio gli eventi nelle scuole con i ragazzi delle scuole medie o delle scuole superiori anche voi in casa potete fare tantissimo di fatto le statistiche ci dicono che le famiglie dove c'è meno di vario sono quelle in cui ci sono dei giovani che in qualche modo coinvolgono i componenti della famiglia nell'utilizzo per esempio dei servizi online è una gran fatica perché io vedo la fatica che faccio con mio padre mio babbo ha solo 70 anni non è che ne abbia 90 è una gran fatica perché mio babbo era un ragioniere carta canta che stampava il libro paghe tutto cartaceo che era abituato a firmare qualunque cosa fargli capire per lui tutto questo è tutta una diavoleria è evidente ma per moltissimi cittadini è una diavoleria che complica la vita è interessante sapere scoprire quanto negli altri paesi non è così allora il DESI Digital Economy Society Index ci dice cosa accade in tutti i paesi dell'Unione Europea quanta connettività c'è quanto è preparato il capitale umano quanto viene utilizzato internet quanto è integrata la cultura digitale nella vita delle persone quanto sono digitali i servizi pubblici al centro c'è la media europea ok tutti i paesi a sinistra non hanno praticamente divario digitale quindi quasi tutti i cittadini usano internet quindi Finlandia Svezia Danimarca Norvegia eccetera noi siamo questi e siamo questi da quando esiste il DESI dal 2015 rimaniamo saldi nella nostra quart'ultima posizione c'è stato un piccolo miglioramento quest'anno ma semplicemente perché hanno leggermente modificato gli indicatori e abbiamo guadagnato una posizione però sempre lì siamo peggio di noi fanno solo Romania Grecia e Bulgaria e ciò che impatta di più su questa torretta di questo istogramma sono le competenze digitali questa torretta è fatta dai servizi dalla connettività cioè anche da componenti che tutto sommato non vanno così male ma qui siamo ultimi nella specifica del capitale umano e sto parlando delle competenze di base apri cartella chiudi cartella salva file siamo ultimi non c'è paese che faccia una figuraccia quanto la nostra e la stragrande maggioranza dei cittadini sono donne il famoso gender digital di vai qui ci sarebbe ad aprire un capitolo che non apro ma che è fondamentale anche quello che accade quando le bambine e le ragazze si iscrivono all'università secondo Alma Laurea nell'immediato futuro noi ci sentiremmo di circa 500.000 nuove assunzioni in ambito ST ed è solo il 21% delle donne in Italia ad essersi immatricolato quest'anno aggiungo che sono gli ambiti in cui c'è tanto tanto lavoro dove c'è lavoro e dove si può scegliere sono gli ambiti cosiddetti STEM scienza tecnologia ingegnere e matematica lì le donne non ci sono ok a fronte del 42% degli immatricolati nelle stesse materie fra gli uomini quindi già ci laureiamo poco poi poi c'è il capitolo Sardegna non lo apriamo ok già abbiamo pochi già in Sardegna già pochi studiano perché abbiamo territori dove c'è l'abbandono scolastico che supera il 30 e il 40% già pochi finiscono la scuola dell'obbligo già pochi si laureano pochissimi si laureano in materie STEM pochissime ancora sono le donne quindi giusto per darvi un'idea del motivo per cui si parla di gender digital divide la carenza di competenze digitali sulla popolazione produce effetti io dico devastanti sulla possibilità di esercitare i propri diritti di cittadinanza e una partecipazione consapevole tutto si fa online adesso accedere a un posto di lavoro presentare il proprio curriculum interagire con le altre persone inviare istanze dire che non mi va bene che facciano lo stoccaggio dei rifiuti in Sardegna anche lì c'era una petizione ed era online chi voleva esprimere le proprie osservazioni sul fatto che la Sardegna potesse essere scelta doveva avere la PEC al di là della petizione online che era quella fatta su quella piattaforma a cui tutti si possono iscrivere ma non tutti sanno come si fa le osservazioni al ministro dell'ambiente potevano essere inviate solo via PEC ma mica tutti i cittadini hanno la PEC ecco dove c'è la disuguaglianza ecco dove si genera diversità con il digitale quindi con effetti sulla capacità di rispondere alle richieste del mercato del lavoro la capacità del paese di adattarsi al cambiamento in corso e ai nuovi mercati legati alle nuove professioni internet intelligenza artificiale internet delle cose IoT big data negli altre nazioni si sta parlando di metaverso che tra un attimo vedremo cos'è è tutto legato al mondo dei dati e noi abbiamo problemi con apri cartella e chiudi cartella questo questo è e dove stiamo dove siamo allora siamo nel web 3 tra un attimo diremo che cos'è il web 3 quindi dobbiamo anche dirci perché non tutti hanno capito che cos'è il web 1 e il web 2 siamo nell'era di internet delle cose quindi di tutti gli oggetti connessi alla rete non solo calcolatori siamo nell'era in cui le decisioni possono essere prese anche da algoritmi di intelligenza artificiale ma dubito che i cittadini sappiano che cos'è un algoritmo e che cos'è un'intelligenza artificiale si si può parlare di intelligenza perché poi questo è il punto il machine learning parola di cui sentirete sempre più parlare sono le macchine che apprendono i modi d'uso e la capacità di fare cose degli esseri umani e che la fanno meglio degli esseri umani attenzione poche cose per quelle poche cose loro sono molto migliori di noi dopodiché hanno l'intelligenza di un lombrico lo vedremo tra un attimo i big data le grosse quantità di dati che vengono immagazzinati dall'uomo nero e dall'uomo buono il metaverso vediamo che cos'è tra un attimo perché vorrei che al termine di queste quattro ore andasse via virtualmente con un'altra certezza il metaverso non è quello di Mark Zuckerberg ma stiamo andando incontro ad un tempo di vari metaverso vedremo esattamente di cosa si tratta realtà aumentata realtà virtuale le criptovalute la smartness soggetti sempre più smart quindi non solo lo smartphone non solo il cellulare non solo il mio smartwatch ma stiamo andando incontro ne esistono già tante alle smart cities alle abitazioni smart dove ci sono i mattoni che rilevano lo stato di umidità della casa e li trasmettono a un server dove ci sono le paline della fermata dell'autobus anche a Cagliari che comunicano in continuazione con il server di CTM per cui CTM sa esattamente quanti autobus della linea numero uno mandare tra le undici e le tredici al mercato di San Benedetto ora ipotizzato tutto ciò accade perché siamo in un infosfera in cui tutti i dati con tutte le banche dati rilasciano dati in continuazione che vengono incrociati per generare servizi siamo nella quarta rivoluzione industriale siamo nell'iperstoria questo ce lo dice un filosofo che si chiama Luciano Floridi un filosofo in odore di premio Nobel ci facciamo scappare tutti i migliori italiano insegna ad Oxford dove ha fondato l'Ethic Lab l'Information Ethic Lab lui ci dice c'è una preistoria c'è una storia siamo nell'iperstoria stiamo vivendo nell'iperspazio dove non si distingue più tra online e offline come noi in questo momento siamo on life quel contesto tale per cui una parte della nostra vita è ancora analogica e una parte della nostra vita è digitale quando io faccio gli eventi nelle scuole una parte di ragazzi mi seguo in presenza in Aula Magna una parte di ragazzi si collega su Meet da casa ok quello è l'on life quella situazione in cui siamo sempre di più e ci dice Luciano Floridi ci sono paesi del mondo ancora in uno stato preistorico ok ci sono paesi del mondo che stanno vivendo la storia tutti i paesi più industrializzati tra i quali l'Italia che producono la maggior parte del PIL grazie alle tecnologie stanno vivendo l'iperstoria e lui ci dice anche che siamo l'ultima generazione quella in corso che avrà memoria del mondo analogico perché quando moriremo noi ci saranno solo le nuove generazioni che hanno conosciuto solo il vivere digitale il vivere online non ci sarà più on life sembrava solo un bellissimo film quello che anche io guardavo nel 1983 che era War Games oggi abbiamo visto realizzato diciamo non esattamente come nel film War Games nel conflitto russo-ucraino quello che accadeva nel film War Games nel 1983 dove un ragazzo intrufolandosi nel database della CIA aveva rischiato di scatenare una guerra mondiale perché cito il conflitto russo-ucraino perché prima ancora di cominciare la guerra fisica quella che è cominciata alla fine di febbraio in realtà i russi avevano bloccato le banche dati ucraine il primissimo segno segnale che qualcosa stava accadendo è avvenuto molti mesi prima quando si è paralizzato il sistema ucraino i database le banche dati della pubblica amministrazione ucraina un'altra cosa pazzesca di cui nessuno parla è se si andava a Mosca per visitare Mosca turisticamente parliamo del periodo preguerra se io volevo acquistare un biglietto della metropolitana dovevo scaricarmi un'app nel mio smartphone che mi consentiva di acquistare il biglietto della metropolitana solo una volta che io avessi fatto la mia scansione del volto ok in Russia in questo momento ci sono scansioni del volto tante quasi ne ha la Cina di tutti gli utenti di TikTok perché chiunque si sia quindi anche gli ucraini chiunque si sia presentato a Mosca e abbia preso la famosa metropolitana di Mosca tra l'altro bellissima come bellissima Mosca ha dovuto fare sottostare alla scansione del proprio volto quindi e già in quello dicono i cultori del tema avremmo dovuto intravedere anche se giustamente vedete voi la scansione del volto per esempio si fa anche nell'aeroporto di Linate di Milano quindi anche lì dovremmo intravedere qualcosa che ci faccia intendere che si stia avviando una sorta di sistema di controllo di massa però lì pare fosse stato fatto con scopo per individuare in particolar modo la popolazione ucraina tutto questo per dire che siamo per la prima volta assistiamo per la prima volta ad una guerra ibrida cosiddetta Instagram e TikTok sono diventate le principali piattaforme per condividere video militari e questo ha fatto sì che per la primissima volta l'intelligence americana citta come fonti account di TikTok perché là dentro che soprattutto all'inizio venivano raccontate le cose che stavano accadendo il tag l'hashtag Ukraine World ha accumulato nelle prime 24 ore da quando è cominciato l'attacco armato quasi 500 milioni di visualizzazioni su TikTok con alcuni dei video più popolari che hanno ottenuto quasi un milione di like questo giusto per darci un'idea di quanto il digitale lo scambio di dati e di informazioni abbia impattato su una guerra che nel caso delle torri gemelle vedevamo in televisione alla quale adesso assistiamo anche attraverso i social che spesso è l'unico modo per consentire alle persone di comunicare lo stesso hashtag su Instagram ha avuto 125 mila post e video più popolari sono stati visti decine di migliaia di volte ci avviamo alla pausa velocemente web 1 web 2 web 3 allora il web 1 è quello che nasce con Tim Berners-Lee nel 1990 il world wide web quella parte navigabile della rete alla quale io accedo quotidianamente per fare le mie ricerche per cercare i miei siti navigavo senza che ci fosse alcun tipo di interazione questo è il web 1 era come un muro sul quale venivano apposti dei post-it io andavo a leggere tutt'al più inviavo una mail a chi aveva condiviso quei contenuti con il web 2 che solitamente viene identificato nel 2006 da questa famosissima copertina di time che decide di scegliere la persona protagonista dell'anno quell'anno scelse il computer e scrisse tu nel 2006 nascono i blog attenzione non esistevano ancora i social network cosa cambia con i blog e i blogger la possibilità di essere noi produttori di contenuti di metterli online di condividerli e di fare in modo che qualcuno li possa commentare mi possa dire che cosa ne pensa mi possa restituire un feedback col web 2.0 che poi vede lo sviluppo massimo ovviamente l'implementazione massima con la nascita dei social network la rete non è più un luogo dove io vado a reperire solo informazioni ma dove io per la prima volta chiunque in teoria è il posto più democratico che potesse essere esistito fino a quel momento chiunque può dire la sua chiunque può accedere alla rete in maniera orizzontale e dire a quel che pensa siamo nel web 3 dove le parole chiave sono blockchain criptovalute realtà virtuale aumentata internet delle cose big data intelligenza artificiale metaverso si dice che siamo nell'era della disintermediazione cosa vuol dire che i dati da questo momento in poi potrebbero più non essere solo localizzati in 4 5 compagnie ma in teoria e questo la blockchain ovviamente non entreremo assolutamente in un'analisi di che cos'è la blockchain sappiate che sono registri di dati decentralizzati ok dati sempre al centro che non sono necessariamente a casa di Mark Zuckerberg o di Elon Musk ma possono essere anche a casa mia ed è un momento in cui i dati tornano a chi li produce tornano ai cittadini è un momento attraverso il quale possiamo acquistare bene i servizi non solo con moneta fisica ma anche come moneta digitale cosa che ha salvato moltissimo anche la Russia all'inizio quando è stato bloccato il famoso codice bancario ha lavorato moltissimo con le criptovalute siamo in un mondo che è un insieme di realtà virtuale ed aumentata e questo è il metaverso lo vedremo tra un attimo e più di tutto siamo in un mondo in cui IoT Internet of Things tutti gli oggetti connessi alla rete producono dati producono big data che alimentano intelligenze artificiali ok e questo è il tema che affronteremo dopo la pausa interrompo la condivisione vi ho cotto perché poi non vi ho dato la parola un istante ditemi qualcosa così a caldo a caldo oltre il caldo che fa ok non sento nessuno allora parlo io non lo so allora un sacco di informazioni tantissime informazioni però molto interessante sicuramente qualcosa da penso da approfondire almeno per quanto mi riguarda perché ci sono ovviamente delle diciamo dei termini che conoscevo ma che non conoscevo si sente tanto parlare di tutti questi insomma dati blockchain IoT adesso faremo l'affondo su questi temi adesso io ve li ho solo anticipati adesso vi dirò chiaro chiaro però almeno per quanto mi riguarda molto molto interessante anche perché io lavoro su tutti questi argomenti e quindi mi è insomma mi ha colpito molto e mi è piaciuto anche se sicuramente è molto pesante sì perché è tanto sono temi sicuramente non da affrontare in quattro ore di seguito ma da diluire il mio auspicio è che poi facciate un po' tesoro delle slide e nel tempo magari vi facciate i vostri approfondimenti posso dirvi che questo è il primo anno che ho sperimentato nel corso di amministrazione digitale l'introduzione del macro tema sull'intelligenza artificiale mi stanno chiedendo solo tesi sull'intelligenza artificiale nell'APA è un tema che interessa moltissimo molto dibattuto in questo momento dal punto di vista etico giustamente ed è il presente futuro su cui un po' tutti dovremmo avere maggiori consapevolezze qualcun altro vuole aggiungere qualcosa prima di alzarci dalla sedia una domanda no no vai vai tranquillo ok no semplicemente volevo sapere perché aveva parlato della di dove potrebbero trovarsi gli attuali cloud a disposizione della pubblica amministrazione però poi non l'ha detto non l'ho detto perché non è stata ancora ufficializzata la localizzazione della pubblica stiamo parlando dei famosi due tre cloud dislocati sullo stivale uno potrebbe essere anche la Sardegna no no io volevo chiedere mi sono spiegato male volevo sapere dove attualmente esistono i cloud dove i nostri dati vengono conservati attualmente in tutta Europa qualcosa anche negli Stati Uniti bisogna anche dire non l'ho detto lo dico adesso che esiste un progetto europeo meraviglioso che si chiama Gaia X che è un cloud solo europeo l'Italia ha deciso di aderire ovviamente a questa cosa ma ciò su cui sta puntando l'Italia giustamente è avere dei cloud nazionali e quindi fare in modo che i dati i nostri dati si trovino tutti in Italia grazie prego allora dottoressa volevo intervenire un attimino prego faccio i miei complimenti lei si è definita un attivista digitale io la definirei un evangelist digitale cioè cambia appena appena il focus detto questo però vorrevo farmi delle parole che hanno detto altri prima di me dicendo che digitalizzazione vuol dire non trasformazione dell'analogico in digitale ma vuol dire semplificazione in tutto questo però in Italia sono stati bravissimi a complicare le cose cioè le faccio qualche esempio prendiamo lo speed ok lo speed che è complicatissimo da ottenere io la invito ad andare all'ufficio postale a vedere cosa succede con le persone non solo con gli anziati ok però allo stesso tempo c'è l'alternativa più semplice che è quella della CMS che puoi fare le stesse cose dello speed perché non ne abbiamo fatto una anziché farne c'è la risposta ce l'ho allora noi siamo partiti prima che esistesse speed avendo già la carta nazionale dei servizi all'interno di quel microchip ci sarebbe dovuto essere tutto incluso la chiave d'accesso dei servizi pubblici l'Europa ci ha detto non va bene perché stai obbligando il cittadino ad acquistare un lettore oppure ti stai facendo carico tu di acquistare di acquistare n lettori ulteriore spesa devi progettare una modalità di accesso che consenta al cittadino di accedere senza avere nient'altro se non user ID e password ok però la PEC è pagamento sì la PEC che è solitaria è a pagamento e ce la teniamo cioè è tutta una contraddizione ma facciamo anche un altro esempio faccio un altro esempio di complicazione quando io prima andavo a acquistare un bene mi facevano la fattura che è un semplice fogliettino di carta oggi la fattura elettronica proviamo a stampare la fattura elettronica sono quattro pagine per aver acquistato un prodotto qui però bacchetto io allora la fattura elettronica nasce per non sprecare una sola goccia di inchiostro ma la sprechiamo di più no ma è sbagliato è lì che allora gliela dico un'altra siamo gli unici che vanno in aeroporto col biglietto stampato e non con il QR code con lo smartphone o meglio quelli che meno sfruttano la possibilità di usare il QR code dello smartphone perché per noi carta accanta perché la deve stampare la fattura elettronica domani guardi glielo dico molto semplice comincio ad avere una certa età ok io stampo tutti i documenti perché so che quando io non ci sarò i miei figli sapranno dove andare a trovare le cose mie che erano mie questo purtroppo lo dobbiamo superare non c'è non ci sarà più io ho già il problema tutti i file che sto creando in questi anni dove ciò le faccio un esempio Imo quant'altro come farò a lasciarle i miei figli cioè dovrò andare beh io mi auguro che i suoi figli abbiano delle competenze digitali che gli consentano di accedere alle sue cartelle però la carta è visibile quello no glielo sto dicendo eh questo è il problema italiano no ma io glielo sto dicendo da chi analizza il problema anche dal punto di vista sociologico glielo posso dire che è tutto italiano questo problema che abbiamo purtroppo per noi carta canta è proprio una questione culturale ed è l'ostacolo principale della transizione cioè noi dobbiamo come sta dicendo lei stampare tutto ma io me ne rendo conto perché sono circondata da persone che fanno cioè che che ragionano così perché siamo stati educati così sa quanto è stato quanto è difficile portare innovazione dentro l'ambito forense sa quante persone sono cancellate dall'albo degli avvocati da quando è entrato il processo telematico perché c'è un rifiuto ma proprio un rifiuto culturale per me vale il pezzo di carta cioè non mi dice nulla il fatto che sia dentro un file con un nome e chi lo sa mi bruciano sono tutta una serie di ragionamenti che in realtà potrebbero valere anche per la carta pensi a quello che è successo ad Amatrice io cito sempre Amatrice e Bitti perché sono i due casi nazionali e regionali che un po' ci richiamano su questi aspetti il digitale è trasparente Alessandro è tracciato è possibile replicarlo tutto ciò che è analogico no assolutamente no quanti problemi sorgono le faccio l'esempio della firma digitale perché la firma digitale vale più di quella olografa perché secondo le regole del diritto italiano la famosa misconoscenza della firma quella firma non è mia se è olografa tu ti devi accontentare del fatto che io ti dico quella firma non è mia se è digitale io devo dimostrare che quella firma non è mia e devo dimostrare che mi hanno rubato il dispositivo di firma e che hanno avuto accesso anche allo user ID e password di quella firma è difficilissimo di sconoscere la firma digitale ma è solo un esempio però ha ragione anche lei cioè del tu ti do del tu Alessandro hai ragione anche tu hai ragione assolutamente infatti secondo me come sempre la verità sta nel mezzo abbiamo anche molto sbagliato nel calare dall'alto tutto questo in Italia senza libretto di istruzioni lo devi fare perché ce lo chiede l'Europa perché ce lo chiede il ministro no non è così che deve funzionare non è così che ha funzionato negli altri paesi però stiamo usando la pausa sì mi permette di raggiungere l'ultima cosa e non abbiamo accompagnato le persone no è quello che lo fanno fare perché ho fatto i programmi per meccanizzare le aziende venivano tutti gli indipendenti venivano accompagnati per ottenere i risultati i risultati c'erano se li abbandoni creiamo soltanto il divario di Mosè da una parte quelli digitalizzati dall'altra tutti gli altri esatto Alessandro ti aggiungo un'altra cosa in questo momento sono aperte le candidature per prendere i soldi per aprire in ogni comune i centri di facilitazione digitale e per il servizio civile digitale sono i soldi per i quali i comuni si stanno candidando di me no non si stanno candidando ma perché non ne capiscono l'importanza e questo è il punto per cui adesso i soldi ci sono non li stiamo usando non li useremo probabilmente c'era un intervento anche da parte di Laura Laura prego sì buongiorno buongiorno interessantissima questa prima parte insomma della lezione mi riaggancio all'ultima cosa detta da Alessandro e a quanto lei diceva relativamente proprio allo switch off diciamo a un passaggio globale parlando di di un caso personale io sono una smanettona sono una che ama molto insomma provarsi con le tecnologie eccetera l'anno scorso a dicembre mi rendo conto che il mio comune non mi ha inviato i bollettini tari e dico ma fammi andare un po' a vedere nel sito del comune e scopro che senza dare alcun avviso a nessuno hanno deciso di portare l'intera procedura quindi dagli avvisi fino al pagamento solo in digitale senza però avvertire nessun cittadino di questo sbagliato 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 assolutamente e la stessa cosa si è ripetuta quest'anno fortunatamente avendo l'intestatario delle bollette io ha ricevuto degli avvisi e finalmente ci siamo accorti è che io non l'ho mai scaricato esatto e gli anziani che neanche sanno dell'esistenza di pago PA cioè mandami un avviso in cui mi dici che a partire da tale data sarà tutto guardi nell'ultimo decreto quello che fa entrare in vigore la famosa piattaforma di avvisatura quella dove noi riceveremo le comunicazioni c'è scritto a caratteri cubitali che la singola pubblica amministrazione andrà avanti nel tempo per tentativi finché non è certa che la comunicazione in qualunque modo possibile si è arrivata al cittadino per cui c'è scritto tra le righe se non gli arriva digitalmente vai a casa e suonagli il campanello cioè non esiste nessuna ragione per cui tagliarlo fuori e così non è stato la cosa che a me ha fatto anche un po' sorridere chiaramente abbiamo pagato in super ritardissimo e vabbè peggio per il comune che non si è preoccupato ma e chi non ha proprio pagato perché non hanno ricevuto l'avviso si è dimenticato cioè è anche un prezzo diciamo un'arma a doppio taglio proprio per per il pubblico sì 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 grazie a lei sì potremmo aprire una rubrica da suggerire alla Gabanelli perché di queste di queste situazioni è piena l'Italia è pieno lo stivale purtroppo sì qualche altro intervento non mi sembra ehm tranne Pierpaolo che diceva che sicurezza digitale ha il cittadino nella chat ormai possiamo poi parlarne dopo allora che sicurezza digitale ha il cittadino carte di credito allora in teoria vedendo quello che è accaduto in regione Sardegna ma ne dovrebbe avere tantissima ne dovrebbe avere tantissima anche perché ci sono dei eh processi eh molto complessi per essere un erogatore di servizio pubblico eh proprio processi che sono molto legati al fatto che si debba garantire il livello massimo di sicurezza solo che qui cito e poi andiamo in pausa in tutti i corsi sulla sicurezza informatica il corso comincia con la slide dove c'è scritto nessun sistema informatico sicuro perché stiamo sempre parlando di zero e di uno e ci sarà sempre qualcuno più smanettone dell'altro che in qualche modo riuscirà a bucare quel sistema però questo non deve servire da deterrente dal bloccarci ok non dobbiamo cadere nel rovescio della medaglia nell'esagerazione opposta di non fidarsi questo è il problema italiano l'italiano medio non si fida della tecnologia e in teoria non ne avrebbe ragione nel senso che non è che in Italia siano accadute più cose che ci facciano dubitare del digitale che negli altri paesi anzi in teoria qualitativamente abbiamo dei servizi di qualità molto elevata semplicemente carta canta come dicevamo con Alessandro quindi abbiamo questa diffidenza congenita nei confronti di tutto ciò che non possiamo toccare con mano questo è ok tutto vogliamo fare di pausa allora ora sono le 11 e 20 facciamo a meno 25 quindi mezzogiorno meno 25 no un quarto d'ora ah ok ok perfetto meno 25 mezzogiorno meno 25 ok quindi 11 e 35 ci rivediamo perfetto a tra poco a tra poco eccoci ma siamo riusciti a bere almeno un caffè sì forse sì diciamo che il clima non aiuta anche se oggi è tutto coperto e fa ancora più caldo almeno dove mi trovo io per cui non ci viene voglia di andare al mare Barbara ci dice sì anche a una telefonata bene ok tutor posso ricominciare? sì sì possiamo ricominciare in anticipo di un minuto avevamo detto 34 allora aspettiamo ora 35 si può iniziare ok allora aspettiamo 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 allora allora ci eravamo lasciati qua bene allora è questo signore che ci ha detto che siamo nella quarta rivoluzione industriale vediamo esattamente di che cosa si parla e perché e perché è importante sottolineare questo passaggio allora è definito storicamente il periodo in cui si può collogare la prima rivoluzione industriale quella intorno al 1760 in cui la materia prima era il carbone la materia prima che come dire segnò il successo di quel periodo storico fu nel 1860 quindi un secolo dopo la collocazione della seconda rivoluzione industriale con petrolio ed elettricità al centro della rivoluzione un altro secolo dopo nel 1960 in realtà quel decennio la terza rivoluzione industriale che è quella in cui viene collocata la rivoluzione che ha cominciato ad avviarsi con la scoperta dei personal computer e della rete internet la quarta rivoluzione industriale ed è questo il tema non è passata dopo un secolo è la prima rivoluzione infragenerazionale si dice quindi una rivoluzione che in realtà avviene praticamente contemporanea all'altra è che è possibile vivere per persone che stanno ancora già vivendo la terza che è quella in cui i protagonisti sono i dati l'intelligenza artificiale, il machine learning quindi le macchine che apprendono statisticamente dai dati ed eseguono dei compiti i big data quindi le grosse quantità di dati che vengono raccolte in ambito pubblico e privato l'internet delle cose quindi tutti gli oggetti connessi alla rete oltre ai calcolatori è la robotica che non è altro che una branca, una parte di tutto ciò che ruota intorno all'intelligenza artificiale che la rete è nata senza che noi ce ne fossimo accorti lo si è detto più volte nasce in ambito militare alla fine degli anni sessanta nelle stanze del Pentagono il brevetto della scoperta del modem che loro si tennero nel cassetto per un paio di decenni in quel momento si cercava di individuare un modo per far comunicare i soldati da una parte all'altra della sfera terrestre sfruttando quell'unica rete esistente in quel momento che era la rete dei cavi telefonici e il modem non fu altro che uno dispositivo che trasformava il segnale da analogico scusate da digitale in analogico perché potesse viaggiare nelle linee telefoniche arrivando a destinazione dove un altro modem lo ritrasformava da analogico in digitale perché potesse essere letto dal calcolatore che lo riceveva naturalmente non stiamo parlando di navigazione stiamo parlando di un sistema di messaggistica istantanea i messaggi che i soldati dovevano scambiarsi da una parte all'altra sfruttando questa grande scoperta che solo nel 1990 Tim Berners li rese fruibile all'universo mondo attraverso il World Wide Web quel famoso www che precede gli url, gli indirizzi internet che digitiamo quotidianamente e che ci fanno accedere quotidianamente anche ai servizi della pubblica amministrazione ma non solo da allora la rete internet non è più una rete di calcolatori ma una rete di cose, internet of things si dice che qualunque oggetto possa essere connesso alla rete dalla lavatrice al forno a microonde ovviamente gli smartwatch gli smartphone smartwatch scusate la nostra automobile è uno degli oggetti più tecnologici esistenti in questo momento dopo gli smartphone le macchine fotografiche come ho detto prima i mattoni che compongono le pareti delle nostre case la piantina che abbiamo a casa può avere un microchip che comunica attraverso una app nel nostro smartphone noi possiamo decidere di innaffiare anche a distanza trovandoci dall'altra parte del mondo e così via le famose case smart e le smart city sono un esempio dello sviluppo abnorme che ha avuto internet delle cose dalle smart tv agli smartphone che monitorano il nostro stato di salute gli altoparlanti intelligenti le caldaie con i contatori della luce automobili con sistema di sicurezza avanzati pneumatici intelligenti che comunicano con l'asfalto altrettanto intelligente sensori per l'agricoltura che misurano la salute delle piante e dei nostri animali dispositivi per monitorare gli anziani che vivono da soli strumenti per gestire il malfunzionamento di un prodotto a distanza ecco sono 110 milioni gli oggetti solo in Italia questo è il dato italiano collegati ad internet quasi due a testa quasi due per cittadino e dal PNRR stanno arrivando fondi per stimolare ancora soluzioni smart qualcuno parla già di internet non più delle cose ma internet di qualunque cosa è la definizione che è stata data da un futurologo della Cisco che dice le cose, gli oggetti sono solo una dimensione della rete in questo momento internet in realtà toglie fuori la dimensione persone, processi, dati non solo cose è tutto in rete è tutto indicizzato in rete ecco perché si comincia a parlare di internet of everything nel 2021 4,7 miliardi di persone quindi oltre la metà della popolazione mondiale è connessa alla rete internet e 25 miliardi di oggetti questo è quello che accade in un minuto in un minuto vengono rilasciate quantità di dati abnorme da tutti questi aggregatori di big data quindi questo è solo l'esempio di ciò che raccolgono i colossi dell'informazione si dice che i dati non dormano mai proprio perché vengono prodotti rilasciati in continuazione la prima rivoluzione industriale l'abbiamo detto poco fa è quella del carbone la seconda è quella del petrolio la terza è la cosiddetta rivoluzione dei dati questa è una esemplificazione di quello che poi è venuto dal World Economic Forum che invece ha proprio distinto allora qui c'è l'identificazione dei dati internet e computer ed è una copertina di The Economist quella che vedete in alto a sinistra degli anni 2000 più avanti il World Economic Forum ha distinto la terza rivoluzione industriale quella di internet e delle reti e dei computer con quella dei dati che è quella in corso si chiama datasfera la chiama infosfera Luciano Floridi siamo dentro quel magma di dati che vengono rilasciati che abbiamo descritto all'inizio tutti i dati big data pubblici e pridati gli open data che analizzeremo finalmente adesso gli open government data sono i dati aperti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e noi che implementiamo in continuazione questo bacino abnorme di dati cosa molto importante e qui introduciamo il tema degli open data è che non tutti i dati pubblici sono open si tende ad usare come sinonimo open data e dato pubblico no, dato pubblico è qualunque dato io renda pubblico anche per televisione anche con un pdf nella pagina istituzionale del comune ma non è open per essere open data cioè riutilizzabile deve avere tre caratteristiche che adesso andremo a illustrare intanto diciamo chi governa giuridicamente i dati un po' ce lo siamo già detti nelle prime due ore allora lo fa sicuramente l'Europa con l'agenda digitale europea 2020 con le famose direttive PSI Public Service Information del 2003, del 2013, del 2019 che dettano le linee guida perché tutti i paesi si adeguino alla condivisione dei dati il codice dell'amministrazione digitale quindi entriamo nella normativa italiana tutto il capo quinto del codice dell'amministrazione digitale o buona parte del capo quinto è dedicata ai dati le linee guida agid perché tutto ciò che è dentro il codice deve essere trasferito dentro linee guida perché possano essere attuati quegli articoli del codice e lo fa l'agid i decreti di semplificazione in particolare gli ultimi due quello del 2020 e quello del 2021 che hanno tenuto a assegnare buona parte dei propri contenuti al governo dei dati alla governance dei dati ci sono poi le strategie open data delle regioni l'ha avuta anche la regione stradegna e le iniziative internazionali la più importante si chiama OGP Open Government Partnership è un insieme di nazioni che seguono le direttive open data che si danno dei punti d'arrivo ogni anno o ogni due anni presentando i cosiddetti action plan anche l'Italia siamo già al quarto action plan e sono degli obiettivi che un insieme di nazioni non solo europee vogliono decidere di raggiungere in termine di partecipazione e trasparenza il famoso open government insieme raggiungendo attraverso delle strategie comuni in questi giorni sono in consultazione le linee guida open data entro vedete la data il 17 luglio 2022 tutti potranno esprimersi accedendo al portale di cui vi ho messo il link in basso a destra per commentare le nuove linee open data questa è una notizia del del 16 giugno quindi di qualche giorno fa cosa c'è scritto in queste linee hanno l'obiettivo di sopportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati nel processo di apertura dei dati di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in particolare tale indicazione riguardano i formati le modalità di pubblicazione i metadati le licenze la tarifazione le richieste di riuso e gli strumenti di ricerca tutti aspetti regolamentati dalla direttiva e dal decreto siccome tutte le linee guida prima di entrare in vigore devono essere messe in consultazione pubblica per un periodo di tempo in questo momento sono in consultazione le linee guida open data anche questo è un tassello molto importante che abbiamo tardato veramente tanto apporre in essere naturalmente dietro c'è il fatto che il PNRR sta finanziando il processo di apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni prima non avevamo i soldi per fare questo in questo momento abbiamo come capisaldi il codice dell'amministrazione digitale che ci dice dal 2005 Norman il corretto open data l'open data by default cioè il dato che nasce open e le pubbliche amministrazioni non dico sono sarebbero obbligate sarebbero perché non esistono sanzioni a mettere i dati in condivisione tra di loro per fini istituzionali e a rilasciare i dati in formato aperto mettendole a disposizione della comunità quando non ci siano ostacoli di privacy o di sicurezza nazionale molto inattuato nelle linee guida c'è qualcosa in più che dovrebbe spingere di più le amministrazioni nel processo di apertura il primo riferimento normativo in tema di open data è il decreto trasparenza il decreto 33 del 2013 che introduceva per la prima volta il principio di open by default dice al suo articolo 7 i documenti le informazioni e i dati oggetti di pubblicazione obbligatoria nel decreto 33 del 2013 sono i dati contenuti in amministrazione trasparente per capirci ai sensi della normativa vigente resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni badate bene questo è uno degli articoli più disapplicati perché in amministrazione trasparente è vero che trovo i dati e le informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare a rendere pubbliche ma non le stanno pubblicando in formato open che adesso vedremo che cos'è una delle domande alle quali vi siete ritrovati a rispondere nel vostro questionario prima di cominciare la mattinata di oggi è sapete la differenza tra open data e big data allora sono due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra però spesso vengono associate è stato un bene associarle nei temi che riguardano l'interazione che stiamo avendo oggi nel corso di questa mattinata però sono concettualmente due cose molto diverse le open data sono quei dati che hanno quelle tre caratteristiche che tra un po' elencheremo che li rendono riutilizzabili ok sono dati pubblici rilasciati da pubbliche amministrazioni e da soggetti privati perché possono esistere anche open data non rilasciati da soggetti pubblici che hanno una licenza d'uso che fanno sì che io li possa riutilizzare aperti ok poi diremo le altre caratteristiche che sono la cosa più importante i big data sono quel marasma di dati che vengono prodotti da tutti gli oggetti connessi alla rete che vengono raccolti nei server che vengono trasformati in banche dati dove quindi i dati vengono normalizzati vengono ripuliti perché poi dobbiamo dire che la maggior parte di questi dispositivi che noi utilizziamo dei siti a quale accediamo i social network producono spesso dati sporchi che per essere elaborati per essere indicizzati per essere interrogati usiamo il termine giusto devono essere ripuliti e sono ripuliti quando abbiamo creato il database la banca dati non hanno nulla a che vedere con gli open data o meglio ci possono essere anche delle bacche dati dove dentro ci sono dati in formato open ma sono due temi che sono come dire non correlabili dal punto di vista nozionistico contenutistico sempre di dati stiamo parlando ecco questa è l'unica correlazione di quali dati parliamo quando parliamo di open data allora intanto parliamo di dati economici cartografici meteorologici economici sanitari qualunque tipo di dato venga detenuto da qualunque organizzazione pubblica o privata quindi non c'è una tipologia di dato nelle specific è un dato che può essere meteorologico sanitario cartografico eccetera che però non sia coperto da privacy attenzione il dato open non deve essere coperto da privacy altrimenti è evidente che non lo posso aprire non deve essere coperto da segreto militare altrimenti non lo posso aprire non tutti i dati pubblici sono dati open questo non mi stancherò mai di ripeterlo non sono open data tutti quelli che vediamo in questo momento nei siti delle pubbliche amministrazioni quelli sono dati di cui si dà pubblicità il pdf non è open non è open perché non lo posso incrociare con altri dati diventa open nel momento in cui offro la griglia di quei dati che ci sono nel pdf pdf me lo posso stampare me lo posso appendere lo devo riprodurre riprodurre per aprirlo io cittadino mi dà il pdf con la tabella dei dati dei positivi di oggi nell'area metropolitana di Cagliari se io voglio incrociare i dati dei positivi stiamo parlando del covid con quelli di un anno fa io quella tabella me la devo riprodurre con excel o comunque con un foglio elettronico anche che non sia excel anzi meglio se non excel meglio sia un formato ancora più aperto per incrociarla con i dati dell'anno scorso il tuo pdf non mi serve a niente mi serve solo per acquisire quell'informazione che io devo necessariamente ridigitare con la tastiera ecco perché il pdf non è un dato aperto ma è pubblico questa è la differenza quando un dataset pubblico può essere considerato open allora deve avere tre caratteristiche deve essere reperibile in rete adesso vedremo di cosa si tratta deve essere machine readable e deve essere libero per il riuso e con una regolare licenza reperibile significa indicizzabile lo devo trovare su un motore di ricerca deve avere un indirizzo che punta direttamente su quel dataset non te lo devo chiedere per me non me lo devi dare per allegato mi devi dare un indirizzo pubblico che mi consente di accedere a quella griglia di dati che io poi devo essere libera di riutilizzare perché non mi devo installare anche niente di più per poterla leggere qui veniamo al machine readable non è che devo avere il programma super costoso con licenza d'uso per leggere quella griglia no deve essere una griglia che abbia un formato tale che la macchina sia in grado di leggerlo senza che io debba necessariamente installarmi un altro software proprietario che mi dia la possibilità di leggerlo e di aprirlo terza caratteristica deve avere una licenza le più diffuse sono le creative commons in particolare la più usata è quella che vi ho messo dentro il riquadro rosso che è quella che c'è in basso anche nelle mie slide che mi dice che posso usare modificare e distribuire quella serie di dati e informazioni però sono obbligata sempre a citare l'autore e cosa importantissima indico le modifiche non è che mi prendo la griglia che ha pubblicato l'istat l'anno scorso ci metto il belboli sono i dati istat nel frattempo io me li sono modificati perché come dire può essere successo anche qualcosa per cui io quella griglia l'abbia dovuta incrociare e modificare e non cito il fatto che ci ho messo le mani o che qualcun altro ci ha messo le mani no se uso quella griglia che mi ha dato l'istat o che mi ha dato il comune di Uristano per raccontare un determinato fenomeno e poi ci metto le mani devo anche specificare che sono partita da quella griglia del comune di Uristano e che poi ho fatto questa determinata modifica ok questo è questi sono i formati ovviamente i visti più visti verdi ho più il formato è open ok la stragrande maggioranza dei formati open sono quelli della stragrande maggioranza dei documenti che circolano in rete quindi il CSV gli HTML e l'XML che sono quelli della fattura elettronica la fattura elettronica in questo momento è il documento più interoperabile che abbiamo ecco perché dico che non deve essere stampato non ne ha bisogno quel documento in XML parla con tutti e là dentro c'è l'informazione di chi mi ha venduto il potrodotto del padroncino che me l'ha consegnato gli estremi bancari di come l'ho pagato c'è scritto tu non ho bisogno di stamparlo devo solo come dire entrare in questo status in un processo di cose per cui vale più quello della carta stampata che si può deteriorare che può andare a fuoco può succedere di tutto l'XML lo archivio in modalità digitale mi faccio le mie copie di sicurezza faccio in modo che come dire chi deve accedere possa accedere attraverso la rete preferibilmente lo memorizzo in cloud e non il computer di casa perché la casa può andare a fuoco e come dire ho salvato alberi perché l'altro sapete che la fattura era l'oggetto più stampato della nel nostro paese proprio quintali di carta solo per stampare fatture che spesso venivano stampate doppie con insomma con tutte le conseguenze che conosciamo allora questa è la griglia che tutto sommato dovrebbe un po' guidarci tutte le volte che noi vogliamo aprire dei dati ok sapete chi deve aprire dei dati tranne i comuni fortunatissimi che hanno l'open data team anche questa cosa è l'RTD che la deve guidare il responsabile per la transazione digitale dovrebbe avere un suo open data team o comunque avere delle competenze intorno che gli consentano di aprire il maggior numero possibile di dataset per mettere a disposizione dei cittadini siamo sono siamo circondati da produttori e riutilizzatori chi sono i produttori di dati allora sicuramente i cittadini tutti i cittadini pubblica amministrazione ne produce tantissimi quotidianamente nella sua azione le imprese sono tutti produttori e riutilizzatori il mondo dell'informazione è un grande riutilizzatore grazie al foia vedi Data Room Milena Gabanelli ma anche Report ma gli esempi sono tantissimi e tra un attimo li vedremo il data journalism che è quell'ambito del giornalismo che si basa la propria informazione partendo dai dati è un riutilizzatore ed è grazie alle istanze foia del Freedom of Information Act che in Italia è in vigore solo dal 2016 quando negli altri paesi esisteva da decenni prima che si possono chiedere i dati da riutilizzare alle pubbliche amministrazioni le pubbliche amministrazioni se non sono coperti da privacy o da segreto istruttore o da segreto umanitale te li devono dare perché devono spiegare perché non te li stanno dando ok esempi allora in Inghilterra c'è questa grazie all'apertura dei dati dell'igiene pubblica è stata creata questa app che ha vinto praticamente concorsi ovunque che io mi scarico che mi dà immediatamente mi localizza immediatamente in base a dove io mi trovo quali sono i locali che hanno avuto come dire delle sanzioni o comunque dei procedimenti negativi a proprio carico rispetto all'igiene pubblica don't eat at non mangiare a non mangiare in questo posto questo è stato possibile perché l'igiene pubblica ha aperto le proprie banche dati questo succede in Italia succede in Toscana sono i dati liberati dall'Arpanet dove tu ti scarichi questa applicazione ha aperto i dati della presenza delle piante particolari che generano fenomeni allergici e tu spostandoti all'interno dei territori della Toscana sai esattamente dove è possibile che tu incontri le piante che potrebbero far scattare dei problemi ai pollini piuttosto che ad altre ad altre tipologie di allergie qui ci dice spore funghine eccetera ed è una un'applicazione banalissima che si nutre degli open data rilasciata in questo caso in ambito pubblico dall'ARPA Toscana questo è famoso ma l'abbiamo copiato anche in Italia però nasce nel Regno Unito Where Does My Money Go è un sito dove ci si collegava e si vedeva dove andavano a finire i soldi delle nostre tasse in realtà abbiamo due esempi in Italia intanto la precompilata che mi dice il 730 precompilato che alla fine mi fa vedere un bellissimo grafico a torta dove mi viene spiegato esattamente dove vanno a finire i soldi della mia tassazione questo perché sono stati aperti quei dati prima non lo erano poi abbiamo soldipubblici punto gov punto et che digitato il nome del comune mi dice esattamente quanto sta spendendo per esempio il mio comune in cancelleria piuttosto che in rifacimento del mando stradale pubblico sono dati che si alimentano dalla piattaforma Siope che quindi sono stati aperti perché possano perché potessero essere incrociati fra di loro e su soldipubblici punto gov punto it ho comune per comune il dato della spesa ok Open Cantieri nasce già qualche anno fa in realtà era un progetto delle ministeri infrastrutture e trasporti che ci faceva vedere quotidianamente cosa accadera sempre con l'incrocio di dati aperti rilasciati nella realizzazione delle grandi opere ok quindi intanto cominciamo ad anticipare che uno degli sviluppi più diffusi è la creazione di mappe le famose infografiche si nutrono di dati in formati Open Data quindi rendono efficace quella comunicazione che può essere molto fredda che ti da che ti restituisce una tabella una semplice tabella te la trasforma in infografica accattivante ci sono dei programmi straordinari che generano infografiche pazzesche si nutrono e si implementano con griglie di Open Data in formato Open Data Open Bilanci qua dentro ci sono tutti i bilanci dei comuni italiani anche in questo caso posso vedere lo spaccato del singolo comune e la singola voce di spesa di quanto ha speso tutti dati aperti questa è l'applicazione che io dico mai più senza allora cosa fa Move It Move It incrocia tutte le mappe del trasporto pubblico urbano ed extraurbano e mi dice esattamente ovunque io mi trovi come posso raggiungere un determinato luogo e quanto ci metto questo accade perché sono state rilasciate in modalità aperta anche nel territorio sardo tutte le mappe del trasporto urbano quindi Arst quello aeroportuale sono state messe in rete tutte le piste ciclabili tutti i punti in cui è possibile noleggiare le biciclette mi sa dire per raggiungere Piazza Roma quanto ci metto a piedi quanto ci metto in autobus ovviamente fantasticando quanto ci metto in metropolitana quanto ci mette ad arrivare il taxi oggi ho avuto la riprova la scorsa settimana mi trovavo a Milano da quando c'è il covid molte meno persone prendono la metropolitana era il giorno in cui c'erano gli stones a Milano e c'era mezz'ora di attesa per il taxi Movit mi ha detto esattamente davanti alla stazione centrale quando avrei potuto prendere il mio taxi e ci ha azzeccato proprio perché c'è un'interoperabilità alla base di dati rilasciati nello stesso formato che consente a Movit di dirmi esattamente tra quanto arriverà un taxi disponibile per me o tra quanto arriverà la mia metro o il mio autobus ok? mi dato anche quanto ci metto a piedi per la verità ok? questo è il portale italiano dati Govit l'ultima versione che attua il piano triennale 20-22 ed è bello perché contiene dentro i dataset di tipo aperto e le banche dati non aperte quindi qua dentro non aperte significa con dati non in formato open quindi qua dentro ci sono tutte le banche dati del settore pubblico italiano naturalmente vi faccio altri esempi esiste la banca dati in formato open che io mi posso scaricare anche dei responsabili per la transizione digitale quello è l'indirizzo su indicepa.gov.it esiste in ipec che anche questo è in formato aperto che mi dà il formato aperto e navigabile di tutte le pec di coloro che sono iscritti all'albo imprese negli albi professionali anche questo lo posso scaricare e riutilizzare in formato aperto importante è il riuso non solo aprire ma la licenza che deve consentire di riusare qualche esempio questi li vedrete per conto vostro vi ho messo dei link c'è Open Coesione che è un sito meraviglioso che analizza e incrocia in formato aperto tutti i dati dei finanziamenti che ci arrivano dall'Unione Europea Monitor il secondo indirizzo monitora lo sviluppo delle opere che vengono realizzate con i soldi dell'Unione Europea Open Ricostruzione è un progetto bellissimo dell'Emilia Romagna che aveva aperto tutti i dati della ricostruzione dopo il terremoto e Open Police vi consiglio di iscrivervi alla newsletter perché ci fa vedere in cioè sfruttando i dati aperti i dati sulla dispersione scolastica sui lavori parlamentari sulla politica in generale dati però sottolineo dati non asserzioni non pensieri non sentimenti ma dati ok a scuola di Open Coesione è un progetto di didattica meraviglioso che veramente di anno in anno sta avendo un successo sempre più diffuso che cos'è anche in Sardegna su Alghero e su Cagliari e su Nuoro ci sono degli esempi meravigliosi sono i ragazzi che vengono educati all'uso dell'open data e decidono di monitorare i progetti chiedendo istanza di accesso ai dati dei propri comuni di appartenenza decidono di monitorare i progetti usando gli open data e ne danno evidenza in eventi pubblici c'è una scuola ad Alghero che fa cose pazzesche questo beni confiscati mafia è il risultato di uno di quei progetti che ci fa vedere un'infografica bellissima dove si mostrano in Sardegna tutti i beni confiscati dalla mafia e come sono stati riutilizzati fino a questo momento Sardinia On Fire è un altro progetto dove gli open data ci fanno vedere in una mappa interattiva spaventosa la quantità di incendi che sono stati appiccati negli ultimi vent'anni e fa vedere in un'infografica che si implementa di anno in anno quante parti della Sardegna sono state bruciate Gionue è un progetto di un gruppo di lavoro di sedilo che ha vinto tantissimi premi anche a livello internazionale perché è la prima impresa italiana ecco perché ha vinto premi ad implementare la banca di dati geografici catastali Gionue è il nome di un'applicazione che ci fa vedere i geodati del comune di appartenenza naturalmente sono i comuni che decidono di collaborare con Gionue quindi là dentro non ci sono ancora tutti i comuni dati govit è il portale nazionale open data regione Sardegna è quello regionale che in questo momento in questa legislatura è fermo e che è stato implementato fino alla legislazione scorsa esiste il portale dati nazionale esiste quello europeo evidentemente c'è uno standard comune perché tutti questi dati parlano tra di loro esistono i portali regionali e tutte le regioni hanno il proprio portale ma esistono anche città che hanno il portale open data c'è il caso di Genova c'è il caso di Milano ma non soltanto il portale di open data Sardegna è stato bellissimo dico è stato bellissimo fino al credo mi pare 2017 ci sono delle eccellenze eh generate create grazie al fatto che sono stati liberati eh dati in particolare oltre Gionue che è un caso nazionale è nazionale anche il bus finder del CTM di Cagliari le famose paline eh che in ogni istante quelle della fermata dell'autobus ci dicono esattamente quando deve passare quella linea e che restituiscono al sistema centrale di CTM quando implementare le corse ma siccome il biglietto elettronico quindi i dati quanti cittadini anziani ci sono tra le dieci e mezzogiorno nel pezzo di tragitto che va da piazza Giovanni ventitresimo al mercato di San Benedetto ok sono dati che incrociati restituiscono informazioni e conoscenza che consegnano che consentono di generare quella cosa bellissima di cui sentiamo sempre parlare che si chiama mobilità sostenibile allora gli open data sono il supporto ideale per generare sostenibilità perché ci consentono di incrociare dati e creare informazioni che normalmente non avremmo negli open data nel desi siamo bravi guardate questa è la classifica europea questo è l'indicatore che ci fa dire beh almeno qualcosa la sappiamo fare bene da sempre sul tema degli open data gli italiani sono stati particolarmente accorti in particolare ci sono moltissime comunità di open datari chiamiamola così localizzare spaghetti open data che in sicilia che aprono dati che mettono a disposizione la propria le proprie competenze per aprire dati anche ad amatrice quando sono stati aperti i dati e sono state create le mappe con i geodati è stato possibile intervenire esattamente nei punti in cui erano crollati dei palazzi per capire se là sotto c'erano ancora delle persone perché degli open datari civici chiamiamoli così avevano creato la mappa con i geodati che fino a quel momento non esisteva quindi questo giusto per farvi capire che c'è un mondo tutto un mondo intorno alla cultura open data i valori europei ci dicono che siamo bravi guardate l'ultima colonna il DESI dice che la media dei dati aperti europei è del 66% noi siamo al 77% ok quindi qualcosa in più rispetto alla media europea almeno negli open data chi ha avviato questa cosa sempre lui Tim Berners-Lee quello il papà di internet come lo abbiamo spesso chiamato quello del WWW che disse non credete al politico che dice che vuole migliorare la qualità della vita dei cittadini chiedete indicatori misurabili chiedete dati la famosa citazione raw data now dati sporchi adesso della serie non darmi più l'informazione che ti sei fatto tu dammi la possibilità di accedere a quei dati che generano l'informazione perché sia io a costruirmi l'informazione in base ai dati lui Barack Obama scrisse il famoso memorandum transparency and open government istitui una comunità che a livello culturale appoggiava quello che si chiamò open government e obbligò tutti gli stati ad aprire data set settimanalmente prima due a settimana poi cinque a settimana poi venti a settimana fu Obama per primo a dire che era un dovere rendere fruibile e accessibile i dati by default e è il paradigma famoso dell'open government trasparenza collaborazione partecipazione che vedete la parte più alta open government data parte dalla liberazione dei dati apro i dati non solo per ottenere trasparenza ma per fare sì che i cittadini possano collaborare conoscendo i dati e quindi partecipino alla costruzione delle decisioni pubbliche questa è la famosa direttiva open government per generare quello che nella direttiva open government viene chiamato empowerment cioè il coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione delle politiche pubbliche si parla di e-participation di partecipazione elettronica che viene attuata ovviamente molto aiutata dalla rete che ci consente di distribuire più efficacemente i dati dati ai quali i cittadini possono accedere più velocemente per conoscere per collaborare e per partecipare questo è il famoso paradigma dell'open government questo è tradotto in italiano in italiano quel empowerment l'hanno tradotto con coinvolgimento in realtà l'empowerment è molto di più di coinvolgimento non è solo coinvolgimento è rendere i cittadini responsabili costruisco quella panchina la metto in quell'esatto punto perché mi hai fatto vedere con i dati che hai liberato che è meglio costruirla in quel punto piuttosto che in un altro non sono d'accordo te lo dico partecipando insieme arriviamo a decidere che quella panchina magari possa essere spostata di qualche centimetro non è solo coinvolgimento è io che sono parte del processo che ha fatto sì che quella panchina venisse costruita esattamente in quel punto e non in un altro questo è l'open government e da qui si parte tutte le volte che si parla di politiche aperte di realizzazioni di politiche pubbliche in modalità aperta che non possono che partire dai dati dall'open government part scusate dal memorandum transparency parte il progetto dell'open government partnership eh l'OGP di cui vi ho parlato prima cioè l'insieme di tutti i paesi che vogliono attuare politiche di governo aperto di cui fa parte anche l'Italia ed è per questa sua appartenenza con Marianna Madia che nel 2016 viene approvato ed entra in vigore il FOIA e la riforma del CAD e partecipando alle riunioni OGP che ci rendiamo conto che in fondo non siamo così trasparenti non lo siamo ancora ma prima la situazione era messa molto peggio e decidiamo quindi di far parte di questo insieme di paesi nel mondo guardate sono veramente tanti che decidono di portare avanti il cosiddetto governo aperto questa è la pagina istituzionale dell'open government partnership italiana open.gov.it e qui arriviamo alla nota dolente tutto questo sarebbe bellissimo se in Italia ci fosse una cultura del dato che manca e l'abbiamo toccato con mano qui vado velocemente sul tema che negli anni negli ultimi due anni eh ha fatto sì che mi potessi soffermare molto perché abbiamo finalmente toccato con mano quanto noi stiamo pagando il prezzo della mancanza di cultura del dato in Italia questa è la immagine del 28 febbraio 2020 dove da quel giorno in poi veniva eh dato quotidianamente alle 18 il famoso bollettino covid che all'inizio era questo 5 marzo 2020 guardate questo è l'inizio c'erano anche delle caselle vuote era un pdf ok poi è diventato questo 25 novembre 2020 sempre un pdf poi è diventato questo 5 ma eh scusate vado avanti questo ok 15 gennaio 2021 sempre un abbiamo aggiunto due colonne casi identificati da test antigenico rapido tamponi processati con test antigenico rapido ma sempre un pdf era non era aperto non è mai stato aperto non è aperto io accedo a questo sito dove c'è il bollettino quotidiano dove c'è una dashboard meravigliosa che mi fa scaricare solo file in pdf ok mi fa l'infografica mi dà l'infografica già fatta mi dice quanti casi ci sono in Sardegna ma non mi dà la griglia che mi dà l'opportunità di incrociare quella tabella con altri dati quindi i monitoraggi entro grafici fantastici mi spiega anche nel sito epicentro istituto superiore di sanità come funziona quell'approvvigionamento dei dati e lì il primo campanello d'allarme perché scopro che è l'autorità regionale che raccoglie i dati che ha la paternità di quei dati ok è la responsabilità di quei dati e che li comunica a livello al coordinamento nazionale e da lì scattavano scatti speriamo che non scattino più quelle misure che decidevano di aprire o chiudere le attività mai una griglia in formato aperto poi è arrivato l'algoritmo perché questo è un algoritmo della colorazione del giallo del bianco e del rosso quel famoso algoritmo che decretava quali erano le regioni che potevano aprire o chiudere l'attività non è stato mai raccontato quell'algoritmo è stato così fatto a grandi linee ma non è stato mai esplicitata la modalità attraverso la quale si prendevano quelle decisioni e poi più di tutto non avevamo certezza o comunque non avevano tanto credibilità le modalità attraverso la quali venivano inseriti i dati in quel famoso database che quotidianamente la regione doveva compilare anche perché a volte lo faceva in ritardo lo doveva fare lunedì lo faceva il mercoledì e già il grafico cambiava solo per questo ritardo e magari c'era un picco di contagi ma non avendo registrato i dati nelle singole ASL ATS la colorazione non rispettava assolutamente lo stato emergenziale ed è qui che nasce l'esigenza di civic servants di associazioni di comunità open data di chiedere questi dati vogliamo dati aperti ben descritti aggiornati e machine readable la petizione dati bene comune è che è stata portata avanti da una serie di associazioni cittadini reattivi report infodata open police transparis international action ed che chiedevano a gran voce al governo italiano di rendere disponibili dati aperti interoperabili disaggregati comunicati dalle regioni al governo dall'inizio della pandemia vado veloce su questo chiedevano anche di rendere pubbliche le evidenze scientifiche le formule e gli algoritmi nonché chiedevano di nominare un referente covid su dati e trasparenza in ogni regione a cui la società civile potesse fare riferimento istituire un centro nazionale in rete con omologhi centri regionali dedicato ai dati covid che non solo imponesse standard e formati ma che coordinasse e integrasse nuovi sistemi di raccolta e individuasse le criticità di quelli esistenti questa cosa non è mai accaduta siamo ancora fermi allo stato primordiale di quella slide del 28 febbraio del 2020 la domanda è perché le istituzioni non sono accountable si dice così usando un termine specifico perché le istituzioni esitano a condividere i dati allora per due ragioni perché la trasparenza aumenta la responsabilità dei decisori è evidente se ti dico tutti i dati tu sei in grado di dirmi di chiedermi più spiegazioni rispetto a quello che alle decisioni che sto prendendo di aprire o di chiudere parliamo del covid che può avere conseguenze sgradite nella misura in cui obbliga a rispondere dei propri errori ok ma c'è anche incapacità di comprendere la rilevanza dell'analisi dei dati e secondo me è anche questo sono tutte e due le ragioni da un lato non voglio rendere conto più di tanto delle decisioni che ho preso l'ho deciso e basta ok dall'altro non capisco il valore dei dati non capisco cosa tutta ne faccia di questi dati è inutile rispondermi tanto i cittadini non lo capiscono ma che ne sai magari c'è qualcuno che li capisce dai almeno loro la possibilità di averceli poi vediamo quello che succede questi dati non sono mai stati aperti questo per dare un'idea di quello che succede in Italia nonostante le direttive open data le leggi e tutto quello che abbiamo citato big data allora una parte di tutti i dati che vengono raccolti o meglio il fine per cui vengono raccolti una parte è quella che emerge quella che conosciamo la parte più rilevante è quella sottostante ai noi allora torniamo a quel minuto che cosa succede su internet in un minuto questo è quello che accade in un minuto con i colossi dell'informazione ok eh quante quante storie su Instagram quanti messaggi su Whatsapp e Messenger quanti download da TikTok eccetera 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 questo è quanto guadagnano in un minuto i famosi colossi e aggiungo non guadagnano dall'abbonamento quel guadagno di Amazon non è tutto dell'abbonamento è in minima parte il costo dell'abbonamento così come vi posso dire che in minima è è rilevante ma non è la gran parte ciò che guadagna Apple dalla vendita dei dispositivi Alphabet e tutto il mondo Google ciò che fa guadagnare questi signori è quello che si chiama compravendita di dati perché vengono raccolti i dati tutto quello che facciamo online e online è un dato un piccolo pezzo di noi che cediamo a terzi in modo più o meno inconsapevole i data broker vi hanno fatto un business si chiamano intermediari trader di dati quelli che hanno non hanno visto l'ora di mettere le mani su quelli ai quali è stato dato accesso attraverso quella porticina ai server della regione Sardegna e c'è un'offerta perché esiste una forte domanda c'è un grosso mercato di petrolio del nuovo millennio c'è dei dati molte diverse sono le società imprese pubbliche amministrazioni governi interessati allo studio di profili dei cittadini per indirizzare i loro prodotti o servizi nel caso della pubblica amministrazione in modo mirato targetizzato potenziali investitori pubblicitari che vogliono dati il più profilati possibile sottolineo questi signori sono ricchi non tanto per il servizio che vendono che peraltro è gratuito nella stragrande maggioranza dei casi ma perché quei big data che loro raccolgono hanno un valore elevatissimo nel commercio dei dati andiamo avanti algoritmi di profilazione per profilazione si intende l'insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti gli utenti attenzione pubblico privato anche con ANPR posso fare profilazione quindi con i dati dell'anagrafe nazionale pubblica della popolazione residente solo che nel caso della pubblica amministrazione li utilizza per erogare i servizi mirati e targettizzati nel caso dell'uomo nero li usa per farmi vedere a ripetizione quella scarpa Nike che per sbaglio una volta ho cercato su Google ok immaginate un mercato in cui sono vendono i dati di Google i dati di Facebook i dati di Netflix e c'è qualcuno che di un certo spaccato li compra tutti e tre e li incrocia immaginate quante informazioni riesce ad ottenere dal mio colore preferito all'ultima vacanza che ho fatto e non perché l'ho scritto nel commento su Facebook attenzione la profilazione non avviene perché io scrivo un post o commento no è perché vengono incrociati i dati anche i miei perché appartengo ad una determinata rete di contatti perché ho messo un like a una determinata pagina perché ho guardato un determinato film su Prime o su Netflix non vi dico cosa si costruisce sui gusti musicali e sui gusti cinematografici ok adesso ci arriviamo per profilazione si intende l'insieme delle attività di raccolta e di elaborazione dei dati inerenti gli utenti di un servizio al fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento si parla di segmentazione o targetizzazione in ambito commerciale la profilazione dell'utente è il mezzo che consente la fornitura di servizi personalizzati oppure l'invio della cosiddetta pubblicità comportamentale messaggi personalizzati per ciascun utente la parte buona della profilazione ad esempio è quella genetica gli algoritmi di profilazione negli Stati Uniti sono in grado sentitemi bene di prevedere la comparsa di un tumore mammario fino a cinque anni prima ok dalla comparsa dei sintomi perché incrociando i genoma i genoma umani di una determinata cerchia familiare o di o di persone che appartengono a un determinato campione si riesce a sapere talmente tanto che la che il medico più esperto l'oncologo più esperto non potrebbe mai arrivare a tante conseguenze perché con le con le macchine che hanno capacità di elaborazione di calcolo così elevate da incrociare così tante tacche così tante risonanze magnetiche tutte insieme incrociandole con tutte le altre informazioni dei pazienti si arriva ad avere una soluzione una predizione perché si tratta proprio di predire qualcosa per cui un oncologo non riuscirebbe mai ad arrivare alla stessa soluzione ma non perché non è un bravo oncologo perché non ha quella capacità di elaborazione tale che hanno in questo momento le macchine si chiama genomica curarsi prima di avere i sintomi sta già accadendo in diverse parti del mondo ed è ovviamente allo studio anche dello IEO in Italia ma in moltissime cliniche si usa già la genomica per cercare di prevenire i sintomi delle malattie più gravi questi due signori in particolare uno sono quelli che invece usano i big data e la profilazione per scopi non probabilmente buoni allora questo signore a destra è Mark Zuckerberg che possiede tutti i big data di Facebook di Messenger di Instagram di Whatsapp l'ultimo simbolo è quello di Oculus dei visori che ci fanno accedere al metaverso quello a sinistra si chiama Steve Bannon ed era il vice presidente di una società che si chiamava non esiste più Cambridge Analytica che acquistò consigliere di Trump diciamo la cosa più importante che nel corso della prima campagna elettorale di Trump acquistò da Mark Zuckerberg tutti i dati dei cittadini americani la sua potentissima azienda ma veramente dei cervelloni pazzeschi avevano incrociato i dati in modo tale tutto raccontato in due documentari bellissimi che vi consiglio di vedere da individuare quali erano le circoscrizioni americane nelle quali occorresse intervenire di più con dei messaggi mirati perché nella cabina elettorale votassero Trump vi sembra assurdo ma è accaduto negli Stati Uniti è accaduto con la Brexit è dimostrato è raccontato incrociare i dati più dati ho da incrociare più ho una descrizione diciamo approfondita del campione più riesco a targetizzare e a incanalare un messaggio e a dire le parole che ci si vuole sentir dire Steve Bannon è venuto anche in Italia ha collaborato anche in Italia lascio a voi come dire la voglia di farvi una ricerca anche sui social per sapere cosa ha fatto in Italia era quello che aveva affittato quella bazzia pazzesca che è un progetto che poi ovviamente è stato bloccato nel nord Italia dove voleva riunire tutti i famosi partiti che insomma tra populisti e diciamo estremisti di una certa parte politica lui aveva la macchina informatica qualche partito italiano insomma ne ha fatto uso che consentiva di targetizzare i messaggi vi dico solo che al termine delle ultime elezioni politiche c'era una certa parte politica che era sì tra le forze politiche che avevano vinto ma aveva poco più insomma una cifra piccolina di consenso quel consenso nel giro di tre mesi si è decomplicato grazie a pagine social che insomma avevano fatto il loro mestiere così come l'hanno fatto negli Stati Uniti e così come è accaduto con la Brexit di qui il discorso di Mattarella il giorno del suo ultimo insediamento quindi quello del tre febbraio del venti ventidue che ha detto poteri economici e sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi aggirando il processo democratico il documentario che c'è su Netflix che si intitola The Great Act che racconta quello che è successo con le elezioni di Trump dice che non saremo mai più sicuri che ci possa essere un processo di elezione democratico nel momento in cui viene così manipolato l'elettorato badate bene che nel documentario si spiega molto bene il fatto che loro individuavano i manipolabili in ogni territorio quindi il cosiddetto popolo degli indecisi che noi sappiamo molto bene quanto essere numeroso anche nel nostro paese e su di loro agivano ok cose che fanno parte dell'uso e dello disuso lo strauso dei dati servono a costruire modelli predittivi nel caso del fenomeno che vi ho appena descritto si parla di cleptocrazia digitale ma state attenti non è illegale che quello che è accaduto mi spiego meglio in quel nostro accetto 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 tutte le volte che usiamo il servizio gratuito per esempio di un social network c'è che stiamo autorizzando ad utilizzare quei dati a Zuckerberg piuttosto che a Jeff Bezos di Amazon il punto è che noi non sappiamo che cosa fa con quei dati ed ecco l'azione fortemente ostacolante che proprio in questi mesi sta arrivando dall'Unione Europea di cui parlerò tra un attimo modelli sempre più accurati che ragionano su inferenze correlazioni che quando pronti e allenati si usa proprio questo termine quando si incrociano i dati e vengono fatti elaborare dall'intelligenza artificiale possono prevedere tutto gli do a disposizione talmente tanti esempi talmente tanti casi statistici che alla fine lui è in grado di dirmi esattamente qual è la maglietta che mi piace di più vi faccio l'esempio la catena di negozi Bershka che c'è anche in Italia se io mi scarico allora me la scarico me la metto nello smartphone settimanalmente periodicamente do un'occhiata dentro per vedere quali sono le cose che mi piacciono di più tengo d'occhio nel famoso cassetto dei desideri gli articoli che mi piacciono di più entro nel negozio Bershka a Parigi e mi arriva la notifica subito immediatamente che mi dice che la maglietta rossa sbiadito taglia s e casualmente straordinariamente quel giorno in offerta e che ne posso acquistare ben tre questo è accaduto perché Bershka sapeva che quell'articolo probabilmente mi sarebbe interessato e mi dà l'opportunità immediatamente appena entro nel suo negozio di acquistarne non una ma tre accade perché io ho l'applicazione nel mio smartphone che ha tenuto d'occhio i miei gusti rispetto agli articoli di Bershka giusto per farvi un esempio una tecnologia questa è una frase che ci deve fare molto riflettere ma che è assolutamente vera una tecnologia sufficientemente avanzata non è distinguibile dalla magia per il semplice motivo che con tanti esempi e con una capacità di elaborazione di calcolo così elevata che hanno oggi le macchine sono in grado di prevedere il tumore ok? sono in grado di prevedere la comparsa dei sintomi di una certa tipologia di tumori preoccupo perché prima non esistevano macchine in grado di elaborare i dati di così tante tac vi ho fatto questo esempio perché forse come dire c'è più vicino ovviamente quello è l'esempio positivo l'esempio negativo sono questi signori che invece usano i dati per guidare le nostre scelte i due documentari che vi consiglio assolutamente di vedere sono The Great Tech che è proprio un docufilm perché ci sono tutte le testimonianze rese anche davanti al gran giurì di tutte le persone di Cambridge Analytica e di Mark Zuckerberg stesso che spiegano cos'è accaduto e poi il più generalista del social dilemma che dice se non paghi il prodotto il prodotto sei tu che spiega molto bene come vengono riutilizzati big data dei colossi questo è un tweet che viene rimarcato dalla giornalista Baravara Carfagna del 7 febbraio dove Mark Zuckerberg minacciava di togliere i servizi Facebook dall'Europa perché è accaduto questo perché adesso sta arrivando la risposta in ritardo ma sta arrivando della Commissione Europea con tre documenti importantissimi il Digital Services Act il Digital Markets Act e il regolamento sull'intelligenza artificiale che obbligherà obbligherà a trasferire tutti i dati di cittadini europei dagli altri paesi all'Europa cosa vuol dire che il signor Zuckerberg se vuole continuare ad utilizzare a far utilizzare Facebook in Europa deve trasferire i server in Europa e deve fare sì che i dati dei cittadini europei seguano la normativa europea e non quella blanda è molto ampia che invece è vigore negli Stati Uniti così come all'interno di queste leggi in particolare il Digital Services Act c'è scritto che non possono essere tracciati i dati dei minori non possono essere incrociati i dati dei minori cosa ci fanno i minori sui social ci sono sono numerosi soprattutto su YouTube quindi è un problema anche quello dei minori è una lotta impari tra le cinque sorelle le famose Google Facebook Apple Amazon e Microsoft e la normativa europea che anche se tardiva sta arrivando ma è arrivato un nuovo protagonista che di cui prima non ci curavamo assolutamente che è la Cina e in questo momento c'è la lotta delle companies americane con le companies cinesi perché l'applicazione il contenitore di Big Data in questo momento più nutrito di dati super sensibili è TikTok che è il più grosso raccoglitore di facce facce che in questo momento aprono portiere delle macchine ci fanno accedere in banca ci sbloccano il servizio dell'applicazione che stiamo utilizzando e questi dati sono in Cina sono andata veloce su questa slide che è importantissima questo grafico racconta quanto è avanti la Cina anche rispetto agli Stati Uniti con brevetti di ricerca su intelligenza artificiale intelligenza artificiale lo diremo tra un attimo è quella modalità che consente agli elaboratori di macinare il maggior numero possibile di dati e fare eseguire cose fare decidere cose con sistemi sempre più elaborati guardate come la Cina guardate noi vabbè noi non esistiamo praticamente qui l'Italia è stata messa in questo grafico solo per dire che esistiamo ma guardate quanto è presente la Cina quanto è avanti nella ricerca la Cina perché dobbiamo temere che prenda posizione in questa stramaledetta guerra allora TikTok ma c'è anche una meravigliosa applicazione americana che si chiama Clearview AI che è stata giustamente eh sanzionata dall'autorità italiana per la privacy a pagare una multa abbastanza diciamo abbastanza importante cosa fa Clearview AI raccoglie miliardi la una quantità abnorme di immagini direttamente dai social network e le raccoglie naturalmente le facce per allenare i propri algoritmi le prende da big data come quelli venduti da Facebook ci sono paesi in datacrazia e qui parliamo di paesi non democratici che basano la propria azione di governo sullo sfruttamento dei cittadini del fatto che siano sempre ripresi sia nella loro vita pubblica che nella loro vita privata cittadini che per esempio accedano con una modalità appunti a determinati finanziamenti rispetto a quanto si facciano riprendere o meno naturalmente questi sono i cosiddetti esempi negativi la datacrazia e la dittatura dei dati nuovo modello di ingegneria sociale che delega tutto il potere decisionale del governo a big data intelligenza artificiale e robotica modello negativo sono Singapore ancora di più la Cina Singapore è una sorta di laboratorio una sorta di città stato sostenuto da un apparato tecnologico esteso fondato su quella cosiddetta tecnoetica o di responsabilità pubblica che si aggiusta e rispetta le condizioni di trasparenza e visibilità imposte dalla cultura digitale i cittadini sono sottomessi a una doppia visibilità da parte del governo e delle autorità quella del comportamento fisico grazie alla moltiplicazione delle camere video negli spazi pubblici ma anche in alcuni privati è quella del comportamento mentale i famosi caschetti che vengono messi alle persone che lavorano nelle fabbriche che sono in grado di estrappolare dal pensiero dalle sinapsi dal modo in cui vengono mandati dei segnali dal nostro cervello a questi sensori che ci sono nei caschetti sono in grado di capire come il lavoratore sia agendo rispetto a quel determinato compito che gli è stato assegnato questo obbliga la cittadinanza a rispettare la legge stiamo parlando di paesi che non hanno nulla a che vedere con i valori democratici della nostra cultura europea ci auguriamo che mai niente del genere succeda dalle nostre parti e siamo ben fermi e ben felici del fatto che l'Unione Europea stia legiferando su questi temi questo è il caso di New York dove a Harlem è stata costruita la mappa di tutti i punti video sorvegliati e giustamente Amnesty International registra il fatto e condanna il fatto che i più video sorvegliati siano i cittadini di colore ok questa è una raccolta di date e informazioni che prevalentemente ricade dei suoi cittadini di colore quindi all'urlo questo non deve continuare dobbiamo bloccare la scansione facciale Amnesty International lancia la petizione perché a Harlem non ci siano tutti questi punti di video sorveglianza allora qual è la conseguenza di questa cosa? La banca dati della polizia di stato di New York ha più dati di cittadini di colore che non di cittadini non di colore e quindi è evidente che nelle statistiche viene fuori e che sono prevalentemente loro a commettere dei reati l'intelligenza artificiale si nutre di dati ma i dati glieli do io devo fare in modo che ci siano dati di tutti i campioni statistici quindi di popolazione bianca di popolazione di colore popolazione asiatica di maschi di femmine di tutti i campioni di età se io li nutro solo con i dati prodotti come si dice dai miei bias mentali cioè gli metto soprattutto dati di cittadini di colore o di maschi bianchi evidentemente l'algoritmo mi restituisce come soluzione di un determinato problema arrestiamo tutti i neri o gran parte dei neri che abitano in quel quartiere perché sono soprattutto loro che commettono dei reati ok ma vi potrei fare decine di esempi anche in Europa di situazioni di algoritmi non di algoritmi che hanno funzionato male attenzione non dite mai l'algoritmo non ha funzionato male l'algoritmo è istruito da una persona i dati che fanno funzionare l'algoritmo glieli metto io gli esempi statistici dai quali l'algoritmo prende vita glieli do io se io metto solo esempi statistici di un certo tipo l'algoritmo prenderà una determinata decisione ma non è l'algoritmo che ha sbagliato vi anticipo un esempio delle slide tra un attimo nel 2015 la buona scuola ha segnato le cattedre con un algoritmo era istruito male i giornali titolarono l'algoritmo impazzito perché aveva segnato le cattedre a persone del sud a gente del nord e viceversa no ma non è l'algoritmo che è impazzito sei tu che l'hai istruito male e lì nasce la responsabilità del soggetto pubblico che deve ovviamente istruire adeguatamente l'algoritmo con tutte le tipologie di lati e soprattutto deve renderne conoscibilità e trasparenza vado avanti accedi col volto paga col volto è più comodo e veloce vi siete chiesti dove e come sono custodite le immagini delle impronte digitali o delle scansioni dei volti usate come chiave per sbloccare i nostri telefoni e se fossero trafugate come potreste contestarne l'utilizzo per altri scopi è impossibile l'algoritmo che descrive la mia faccia non è una fotografia è la scansione del mio volto sono i puntini che uniti compongono solo il mio volto e quello di nessun altro io non potrò mai dimostrare che quello non sono io che non è stato il mio pollice ad aprire quella banca che poi è stata scassinata perché è la riproduzione matematica della mia impronta si chiamano dati super sensibili sono molto protetti molto tutelati dal nostro GDPR che dice è vietato trattare dati personali biometrici intesi identificare in modo univoco una persona fisica cosa molto importante da quando Apple per prima con il suo iPhone 5S diffuse il famoso Touch ID furono veramente tanti i telefoni le case produttrici di dispositivi che utilizzarono che hanno cominciato ad usare questo sistema parliamo di dati biometrici aspettate perché la slide non sta andando avanti eccoci qua ciò che viene salvato dallo scanner dello smartphone o altro dispositivo per poi essere confrontato ad un successivo tentativo di accesso non è una fotografia ad esempio dell'impronta digitale ma la scansione dell'iride oppure la struttura del palmo della mano del pollice attraverso una rappresentazione matematica unica per ciascun essere umano ecco perché sono dati super sensibili ed ecco perché sono dati sui quali ci deve essere un livello di attenzione molto elevato dareste mai le chiavi di casa ad un estraneo evidentemente la risposta no questi tre signori hanno molto più delle chiavi di casa questo signore è quello cinese lui è Mark Zuckerberg lui è Jeff Bezos attenzione quando un utente accetta una richiesta di amicizia questa è una roba che non si sa non la parte iniziale ma quella finale un potenziale criminale ottiene informazioni personali come la posizione il numero di telefono e più di tutto la cronologia delle relazioni dell'utente gli stiamo aprendo la porta di casa alla crono a tutta la rete che compone la mia comunicazione social quindi non gli sto dicendo solo le mie cose ma tramite me gli sto aprendo la porta anche a tutti i miei contatti a cui accesso normalmente solo la cerchia di amici accettati dall'utente e poiché molti utenti aggiungono cosiddetti amici che non conoscono vedi chat di whatsapp lascio a voi fare le debiti e conclusioni cosa sa lui allora lui sa l'universo mondo allora intanto cosa mi piace acquistare in che periodi normalmente acquisto quando è il compleanno magari di qualcuno di casa perché lui ha un algoritmo che gli dice esattamente in quale periodo dell'anno io acquisto una certa tipologia di oggetti sa che libri mi piace acquistare quali sono normalmente i colori che acquisto di più le marche che acquisto di più ovviamente dove abito ok se poi ho anche un abbonamento però in video si apre un mondo perché dai gusti cinematografici si ricostruisce il profilo psicologico di una persona si sa praticamente tutto di quella persona se poi ascolta anche la musica con Amazon Music il puzzle è sempre più completo e poi abbiamo il controllore in casa cioè Alexa registra quello che dico non registra solo la mia voce ma intanto sa sa esattamente quello che voglio perché gliel'ho già detto con gli acquisti gliel'ho già detto dicendogli che film mi piacciono e che musica ascolto ma più di tutto registra tutto quello che avviene in casa l'allarme in questo momento di tutti i garanti della privacy del mondo è proprio sugli assistenti vocali la sintesi vocale la sintesi vocale assistita dall'intelligenza artificiale solleva una minaccia eccezionale che vale molto più delle altre per furti e frodi dal momento che si può con un software di editing aggiungo banalissimo e di generazione vocale per i processi di sicurezza biometrico sbloccare porte casseforti veicoli entrarli e utilizzarli con la voce di qualcun altro i criminali possono parlare con la tua banca o con altre istituzioni per raccogliere dati sensibili o per effettuare transazioni critiche o dannose il software Adobe ad esempio è in grado di apprendere e riprodurre lo schema di un discorso personale individuale di chiunque a partire da una registrazione di pochi minuti della sua voce aiuto aiuto i messaggi vocali watch out stiamo attenti ovviamente non solo Alexa ma anche Siri ma anche Cortana di Microsoft cosa sa di lui un po' lo sappiamo già basta guardare questo grafico che ci dice nel mondo quanto è utilizzato Facebook Whatsapp e Messenger e Instagram diverso in Italia è leggermente diversa ma eh come dire il la sostanza non cambia noi siamo dei Whatsappari e usiamo moltissimo YouTube più che nel resto del mondo cosa ha la possibilità di attingere e di vendere Mark Zuckerberg è deducibile da i numeri di quanti abitanti della Terra siano dentro i suoi contenitori di Big Data e da lì vi fate un'idea del motivo per cui è super richissimo entriamo nel metaverso negli ultimi dieci minuti allora il metaverso è un insieme di realtà virtuale ed aumentata la realtà virtuale è quella che già esiste anche in moltissime cliniche quando si opera in endoscopia il chirurgo che attraverso la telecamerina che mette nello strumento che sta utilizzando per asportarci una ciste mettiamo vede nel monitor quello che sta accadendo vede un po' una virtualizzazione del nostro organismo è opera guardando l'immagine del monitor ok questo è la realtà virtuale quindi una situazione reale che esiste con la quale all'interno della quale possiamo interagire utilizzando i visori usando dei caschi guanti tattili ok esistono già moltissimi videogiochi che sfruttano questa modalità di interazione sfruttatissima in medicina in architettura nella modellistica nello studio delle biomolecole la realtà aumentata è un'altra cosa perché non so se vi ricordate l'applicazione pokemon go sono io che inquadro un determinato ambiente e vengono aggiunte delle informazioni è già possibile vederlo in moltissimi siti turistici dove io inquadro il nuraghe e mi compaiono dopo che mi sono scaricata l'applicazione tutte le informazioni di quel nuraghe il metaverso che non ha inventato Zuckerberg ma esiste dal 92 da quando Neil Stevenson ne parlò in un suo famoso romanzo è un insieme di realtà virtuale ed aumentata ok è un mondo che ci farà fare a meno della tastiera e del mouse ma all'interno del quale interagiremo interagiamo perché ci sono già molte situazioni in cui è già possibile farlo usando i guanti tattili e sfruttando dei caschetti o i visori non è futuro sta già accadendo Seul è la prima città che si è candidata ad essere presente nel metaverso l'ha già annunciato all'inizio del 2023 Seul diventerà la prima città del futuro cosa succederà che indosserò i miei i miei visori 3D i miei occhiali tridimensionali i miei guanti e parteciperò agli eventi che si svolgono a Seul per esempio i protagonisti dentro il metaverso sono i cosiddetti avatar questo non l'abbiamo detto quindi delle figurine che in qualche modo impersonano noi stessi e gli altri che ci consentiranno di partecipare alle riunioni per darvi un'idea di quanto sta già accadendo tutte le grandi case di moda da Gucci a Balenciaga stanno già vendendo gli abiti per il metaverso questa è la prima scuola del metaverso italiana è stata inaugurata a Milano poco tempo fa visori 3D e guanti con sensori avatar e ambienti virtuali che riproducono fedelmente aule e laboratori esiste già tutto questo accade perché parliamo di dati il metaverso è fatto di visori di guanti tattili che funzionano perché ci sono dei dispositivi che rilasciano dati che vengono incrociati e vengono elaborati dalle intelligenze artificiali i dati più che mai oggi nel nuovo ecosistema digitale in cui le macchine hanno grandissime capacità di calcolo vengono raccolti ed elaborati automaticamente nutrono algoritmi che alimentano intelligenza artificiale la vera protagonista della quarta rivoluzione industriale da qui l'affermazione della ministra Messa che dice tutti i cittadini dovrebbero sapere cos'è un algoritmo e come si comportano le intelligenze artificiali lo ha detto perché ci sono già paesi come la Finlandia la Svezia e la Norvegia dove i corsi sull'utilizzo basico e sulla conoscenza basica dell'intelligenza artificiale esistono già da anni c'è Barcellona dove i cittadini ma anche Helsinki implementano gli algoritmi di intelligenza artificiale per la raccolta differenziata e per la mobilità sostenibile non sono tutti i cittadini ingegneri e matematici ma gli viene spiegato come funziona l'intelligenza artificiale e come funziona quell'algoritmo che poi gli fa pagare la bolletta a fine mese questo è il punto con la rivoluzione digitale compare un nuovo una nuova regola la regola algoritmica che fa parte anche in quella che viene chiamata la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale sarà sempre utilizzata in questo momento si stanno studiando dei sistemi anche per la selezione del personale più efficace quello che mi va che passi oggi adesso io vado veloce su queste slide è quello che dice il consiglio di stato che dice che l'intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata solo se le decisioni sono vincolate che l'imputabilità è sempre al titolare dell'organo quindi alla singola pubblica amministrazione che decide di utilizzarla e che deve essere in grado di spiegare motivare argomentare rendere comprensibile al cittadino la regola che sta dietro l'utilizzo di quell'algoritmo e che ha determinato quella scelta vedi la regola del lockdown davanti ad atti amministrativi digitali e algoritmi cioè ce ne sono già tanti occorrono ovviamente delle tutele rafforzate stiamo parlando di dati che vengono prodotti da macchine incoscienti di sistemi capaci di intendere ma non di volere ma che però vengono istruiti dalle persone di chi sarà allora la responsabilità civile o penale del drone che si schianta causando danni a cose o persone o del robot che esegue un'operazione che provoca conseguenze dannose a terzi aprire le porte dell'esistenza di una personalità giuridica elettronica sarebbe aprire una porta che noi non vogliamo aprire a un'idea molto rischiosa che esistano in chiopo alla macchina non solamente delle responsabilità ma anche dei diritti grazie a Dio il nostro ordinamento giuridico dice ben altro sottolineiamo che un conto è l'atto digitale che è quello che scrivo con Word per capirci un conto è l'atto algoritmico che deve essere caratterizzato da un principio di non esclusività per cui l'intervento umano deve essere sempre possibile deve essere comprensibile e motivato il suo utilizzo e non deve essere discriminatorio quindi deve avere dati di popolazione bianca di popolazione di colore maschi femmine di tutte le età un'APA ha il dovere di dare sempre ragione delle proprie decisioni quindi tutte le volte che utilizzerà e sta già utilizzando la regola algoritmica deve essere in grado di spiegare altrimenti viene meno ai principi costituzionali questa è la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale che è stata lanciata nel novembre del venti ventuno e sono stati già avviati tutta una serie di attività per modernizzare l'azione della pubblica amministrazione alla base c'è però sempre ciò che ha scritto tempo addietro il Consiglio di Stato che non verrà mai impiegata per decisioni discrezionali ma sempre per decisioni vincolate ti do io gli estremi gli esempi dai quali partire è lì il vulnus però è lì che dobbiamo essere in grado di capire se c'è un errore alla base di come gli sono stati dati i dati ti do i dati e tu decidi però i dati devono essere di tutte le tipologie di cittadini ok avrete il link nasce anche Privacy International che è un gruppo di lavoro eccezionale che ha deciso già di mappare tutte tutte le azioni che la pubblica amministrazione italiana sta portando avanti introducendo le decisioni algoritmi che si chiama osservazione amministrazione automatizzata vi consiglio di darci un'occhiata perché rimarrete sufficientemente sorpresi di quanto l'intelligenza artificiale sia già in uso anche nella pubblica amministrazione italiana il primo a porsi il problema a fare un ragionamento sulle macchine che pensassero o no e questo signore non so se avete visto dei imitation game un bellissimo film fu Alan Turin che fu il primo a dire negli anni 50 guardate che non possono stare nella stessa frase non possiamo pensare di mettere insieme il pensare e la macchina la macchina non pensa e grazie a Dio da allora siamo rimasti ben fermi su questa su questa convinzione salvo il fatto che ogni tanto venga fuori uno tipo quell'ingegnere di Google l'altro giorno che ha detto l'algoritmo è senziente ok tutte balle chi inventò il termine è invece nel 1956 tale John McCartney che inventò il termine intelligenza artificiale associandola ad una start up chi la studia oggi ce la sa spiegare benissimo il filosofo Luciano Floridi quello che vi ho citato prima che dice una cosa verissima è una nuova forma di agire senza intelligere la macchina sempre che gli dico io quello che deve fare che istruisco io ma non ha intelligenza agire senza intelligere è privo di intenzionalità questo è il faro che ci deve guidare non sappiamo neppure che cos'è l'intelligenza umana figuriamoci se siamo in grado di replicarla tu stai mi Antonella devo sapere quanto manca per potermi organizzare per la prossima lezione per avere qualche minuto di pausa secondo te all'1.05 può andar bene? poi non abbiamo il tempo per la pausa quindi no quindi mi devo fermare? allora sì direi che per tanto ogni caso hanno le slide per poter completare questo discorso mancavano 30 slide però gliele do senza problemi ok benissimo aspetta che interrò mi dispiace non siamo arrivati alla fine stavo cominciando a parlarvi dell'intelligenza artificiale però spero insomma di avervi dato gli spunti le slide sono abbastanza esemplificative vi ho messo dei link a dei video quindi potrete approfondire ci rimane qualche minuto per avere un feedback su questa seconda parte? intanto io do quattro minuti di pausa a chi vuole per poter ricominciare alle tre e cinque con la lezione successiva ecco io non sapevo questa cosa ok vuole scusatemi tranquillamente chiacchierare ancora quattro minuti e poi iniziamo il prossimo argomento grazie grazie Antonella grazie a tutti non vi voglio occupare però sono felice di ascoltarvi se qualcuno vuole dirmi qualcosa se è possibile volevo fare un'osservazione sì prego prego diciamo che nel caso di trattamento dei dati personali diciamo che quelli che raccolgono i dati che vanno a tenere in questa raccolta enorme sono gli utici che hanno pensato anche alle persone con meno preparazione meno scolarizzazione informatica infatti tutti abbiamo nel portafoglio la testa del Conad del Sisa o altro e lì c'è una raccolta dati che è terribile cioè sai cosa mangi cosa bevi quanto spendi e c'è anche il pensionato che magari non si intenderà molto di informatica però viene etichettato molto bene seguito non lo so fare questa giusta allora la risposta che do a mio padre quando mi dice tanto io non so su Facebook ce l'hai la testa appunti del Conad sì ce l'ho ce l'hai la testa del benzina io sì ok sei tracciato anche tu sì esattamente come dici tu siamo tracciati in una miriade di modalità poi tra l'altro anche Cagliari scusate se andrò di nuovo prima leggevo che non so se era il quartiere di Manhattan è pieno di videocamere io forse per il lavoro che faccio sto sempre con la testa in aria ma sappiate che Cagliari pullula di videocamere in una maniera incredibile e non solo Cagliari sì ma tutta l'Italia le trovi anche all'ingresso di ogni paesino diciamo che io vorrei amministratori amministratori illuminati come la come l'assessora del comune di Torino che non ha accettato la richiesta di videosorvegliare un quartiere ha detto no sì 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 quindi noi c'è già il riconoscimento facciale tutta questa quantità di dati io sono sempre dell'idea che un computer è sicuro quando non è collegato alla rete ma se è collegato alla rete è una porta aperta per tutti gli estranei che vogliono entrare sì anche nel nostro ministero abbiamo una pecca istituzionale che viene puntualmente bucato strabucato presidati cancellati anche la nostra posta personale addirittura abbiamo anche un firewall abbastanza avanzato insomma siamo come sicurezza ancora all'età della pietra lo so lo so siamo come cultura digitale molto indietro si parla molto di etica dell'intelligenza artificiale proprio perché si vogliono sottolineare gli aspetti etici di queste scelte non devo solo badare al fatto che mi consenta di fare una cosa meglio devo guardare anche i risvolti etici di questa scelta come impatta sulla privacy dei cittadini per esempio certo 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 sono argomenti che cominciano adesso a toccarci moltissimo da vicino io comunque sono un po' in realtà insoddisfatto della mia profilazione di Amazon mi profila da anni e anni e anni ancora mi consiglia dei libri che non mi interessano non capisco l'algoritmo quindi è strano è stato si è autoistruito l'hai preso in giro in qualche modo acquisto due tre libri al mese da dieci anni non ne azzecca uno dai mi propone titoli che non acquisto mai vabbè mi accontento è sotto gli occhi di tutti quelle quando state per fare un acquisto gli quelli che hanno acquistato questo libro hanno acquistato anche oppure quelli che hanno visto questo film hanno visto anche questi altri e quello ringrazio allora moltissimo la dottoressa grazie grazie vi giro le slide grazie a tutti per la pazienza e allora partiamo subito grazie a tutti